buongiorno a tutti benvenuti a questo incontro primo incontro della serie delle frontiere della biologia io sono Antonino Cattaneo sono professore qui alla scuola normale superiore e quindi introduco questo corso soltanto per darvi il benvenuto della scuola normale superiore da parte del suo direttore il professor Beltram la scuola normale è molto fiera di poter ospitare questo questo incontro che si svolge appunto nell'ambito di una serie in collaborazione con l'Accademia dell'Incei come sapete questo è il primo incontro primo di una serie di tre incontri che il cui calendario ovviamente voi conoscete e il prima di dare la parola alla professoressa Giuseppina Barsacchi dell'Accademia dell'Incei che vi porterà il saluto dell'Accademia dell'Incei volevo dire due parole due brevissime parole per introdurvi la relatrice di oggi che è la professoressa Marina Bentivoglio Marina Bentivoglio è professore di istologia alla Università di Verona Marina Bentivoglio è una neuroscienziata di valore internazionale si è occupata di problemi molto importanti nel sistema nervoso soprattutto ha una lunga esperienza di è una è proprio una 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 grosso entusiasmo anche per la divulgazione delle neuroscienze per insegnare le neuroscienze anche al grande pubblico oltre che nelle aule universitarie Marina Bentivoglio ha ottenuto numerosi riconoscimenti internazionali per le sue ricerche ed ha svolto incarichi direttivi in molte organizzazioni internazionali tra cui ha diretto l'International Brain Research Organization che è una grande organizzazione internazionale di promozione per la ricerca sulle neuroscienze a livello internazionale soprattutto nei paesi in via di sviluppo ha diretto la società italiana di neuroscienze quindi è veramente una neuroscienziata di di valore internazionale siamo molto contenti che Marina possa svolgere il suo la sua conferenza introduttiva di questa serie io non vi rubo altro tempo lascio la parola alla professoressa Giuseppina Barsacchi dell'Accademia dell'Incei grazie Antonino mi aggiungo al ringraziamento alla professoressa Bentivoglio per la sua presenza qua e grazie a voi che siete qui perché senza di voi questo programma dell'Accademia dell'Incei per le scuole non si potrebbe fare ogni volta che inauguriamo in un corso e questo è il caso oggi è emozionante incontrare gli insegnanti a cui questi corsi sono rivolti e quest'anno il corso si basa sulle neuroscienze come avete visto e siamo privilegiati perché approfittiamo delle competenze eccellenti presenti in Pisa qui alla scuola normale e anche al CNR all'università perciò le tre perciò in effetti l'ideazione di questo corso viene dai nostri neuroscienziati e io spetta a me lo faccio molto volentieri veramente portarvi il saluto dell'Accademia dei Lincei nelle persone in particolare dell'attuale presidente Alberto Quadrio Curzio l'economista e del presidente precedente attuale vicepresidente Lamberto Maffei e a loro va il merito di avere ideato e sostenuto e con determinazione perseguito l'idea di questo programma di sostegno agli insegnanti delle scuole secondarie di ogni ordine grado vedrete che a Pisa quest'anno iniziamo con le scuole dell'infanzia fino ai licei fino a tutti i licei e questo programma ora copre larga parte del territorio nazionale ci crediamo molto e desideriamo proseguirlo tra l'altro Lamberto Maffei attualmente presidente di una fondazione che è stata creata appositamente per dare consistenza e solidità a questo programma abbiamo cominciato in modo un po' artigianale c'è ancora molto volontariato bisogna dire ma questo aiuta sempre e pensiamo che possa perciò proseguire e sperabilmente grazie appunto alla vostra partecipazione incidere sul lavoro delle scuole di ogni categoria grazie naturalmente alla scuola normale al direttore al personale che è sempre ineccepibile alla segreteria di cui non potremmo fare a meno poi per queste belle strutture in cui ci ospitano e ora do la parola alla professoressa Bentivoglio per la sua lezione grazie ancora funzionano questi? no? o meglio usare questi? buonasera a tutti buonasera grazie per essere qua dopo questa introduzione mi sento imbarazzata e sono grata a chi ha organizzato tutta questa manifestazione ho sentito parlare di scuola dell'infanzia ma voi insegnate ai licei vero? quindi all'istruzione superiore allora devo dire che non conosco i vostri libri di testo non li ho guardati e tutto sommato mi spiace doverlo dire ma non ho mai neanche letto un libro di neuroscienze un libro di testo di neuroscienze perlomeno dall'inizio alla fine forse ogni tanto l'ho consultato anche perché quando sono laureata in medicina specialista in neurologia e ho rapidamente lasciato il lavoro clinico per concentrarmi sul lavoro di ricerca e non esistevano testi di neuroscienze quindi in realtà poi mi sono un po' costruita il mio libro di testo devo però dire con dolore che da qualche sguardo da qualche segnalazione che ho avuto da colleghi i libri di testo delle scuole sono pieni di errori e questo non so da chi dipenda non so chi li controlli però ogni tanto ci sono proprio degli strafalcioni questo è quello che mi è stato segnalato per l'incontro di oggi in realtà ho deciso una cosa un po' strana che avevo organizzato tempo fa avevo spiegato anche prima io ho insegnato a lungo alle scuole di specializzazione neurologia riabilitazione psichiatria al primo anno quindi parliamo di colleghi medici laureati i quali iniziano una specializzazione e allora quando li incontravo mi sembrava mi ricordo bene di che materie si parlasse ma comunque il primo anno delle materie di base rinfrescare l'organizzazione del sistema nervoso era il mio primo quesito a loro era come ci muoviamo e questi colleghi medici rimanevano completamente congelati mi guardavano disperati come se una domanda di questo genere fosse una domanda molto originale alla quale era difficile rispondere e allora a un certo punto ho detto ma scusate forse bisogna che un corpus generale di informazioni debba essere messo insieme in modo organico e allora ho pensato di fare una passeggiata di cose che voi sicuramente saprete sono nei libri di testo sono anche per la maggior parte non tutto ma insomma di sapere comune però per mettere insieme un itinerario che è l'inizio in cui poi voi potete approfondire delle nozioni o se un ragazzo è interessato può andare avanti oppure può essere stimolato a intraprendere degli studi del genere all'università dove peraltro tuttora le neuroscienze anche se sono definite al plurale noi ci chiamiamo neuroscienziati anche se la parola scienziato in italia fa sempre un po' uno pensa sempre che sia matto a me quando chiedono che mestiere fai dico che insegno all'università perché se dico scienziato pensano so però insomma c'è una società di neuroscienze quindi c'è una comunità scientifica molto attiva peraltro ma dal punto di vista dell'insegnamento universitario in moltissime sedi e tuttora nei programmi ad esempio di medicina gli insegnamenti sono spezzettati no la fisiologia anatomia la farmacologia e purtroppo o per fortuna le neuroscienze sono altissimamente integrate cioè ciascuno di noi per fare ricerca ha ovviamente un know how più approfondito in certi campi ma deve sapere insomma è quello che con un termine un po' di moda si definisce come interdisciplinare sono un campo interdisciplinare allora per cercare di essere utile organizzato le cose in questo modo il più semplice possibile perché secondo me la chiarezza non è mai troppa e questo l'ho visto tutti i livelli di insegnamento che mi è capitato anche a livello internazionale di iniziare da una premessa fare un piccolo richiamo anche all'organizzazione cellulare del sistema nervoso perché vi prepara ad incontri successivi e poi iniziare questa che io chiamo la passeggiata nel cervello e cioè partire dall'ambiente e ritornare all'ambiente come noi usiamo il nostro cervello e immagino che ci sia uno spazio per le domande chiunque abbia delle quelle che in inglese si chiamano le burning questions sicuramente può interrompere in linea di massima magari è meglio arrivare alla fine e poi insegnate dei quesiti se non sono proprio brucianti e poi io sono a disposizione tutti siamo a disposizione per domande e dibattiti l'altra cosa che io ho fatto una fatica tremenda a preparare quello che vi dirò oggi perché avevo una serie di presentazioni ma sostanzialmente in inglese quindi perché l'inglese io rispetto non solo moltissimo le lingue ma anche i dialetti sono un patrimonio culturale le lingue anche minoritarie sono una ricchezza detto questo l'esperanto della scienza è l'inglese e quindi le presentazioni che avevo sono in inglese spero di averle tradotte in modo corretto ho passato svariate ore ieri stamattina in treno quindi poi di fronte a dei docenti mi spiacerebbe ci fossero degli errori comunque ho dovuto tradurre ecco questo e molti termini peraltro sono tecnici allora iniziamo proprio da una premessa di ordine generale quello che in inglese si chiama set the stage no cerchiamo di mettere in un contesto e poi iniziamo la nostra passeggiata allora a cosa serve il cervello e come facciamo a capire a che cosa serve il cervello allora forse l'esempio sicuramente più triste ma anche più conclamato di a cosa serve il cervello voi lo avete da quello che è la morte cerebrale sapete benissimo che ci sono dei casi in cui il concetto di morte oggi parlo in termini ovviamente biologici ma anche legali è difficile perché l'individuo può essere tecnicamente vivo col cuore che batte ma il cervello è morto ora una persona in morte cerebrale quindi poi si inizia la relativa procedura che può consentire l'espianto degli organi eccetera eccetera però una persona in morte cerebrale è una persona che non è più fra noi è tecnicamente vivo ma anche tecnicamente incapace di comunicare con l'esterno quindi a cosa serve il cervello il cervello serve a metterci in un contesto come persona serve a noi a essere persone ora non so se vi capiterà o se viene menzionato in libri di testo o se viene scritto sui giornali ma molti dei grandi problemi vengono studiati in organismi molto semplici come il moscerino della frutta oppure un verme, il verme della terra il Cenorhabditis elegans, organismi molto elementari questo perché il cervello nel corso dell'evoluzione in particolare poi nei mammiferi aumenta di complessità è una struttura molto complessa e per comprendere alcuni principi di funzionamento che vengono poi mantenuti nelle specie e nel corso dell'evoluzione degli organismi semplici aiutano ora da questo punto di vista sarebbe bene tenere sempre presente che perlomeno per quello che riguarda il sistema nervoso l'evoluzione non ha sottratto ha aggiunto e quindi nel corso dello sviluppo filogenetico del cervello abbiamo aggiunto funzioni aggiungendo funzioni abbiamo aggiunto reti neurali ora vedremo cos'è una rete neurale, un circuito abbiamo aggiunto la capacità di scolpire queste funzioni a seconda delle esigenze dell'ambiente e le spinte biologiche sono comunque delle spinte fondamentali quelle della sopravvivenza la sopravvivenza dell'individuo e della specie e la riproduzione e questo lo sono anche nell'homo sapiens sapiens cioè noi e in tutto questo immagino che questo sia vero di tutto l'organismo ma per quello che riguarda l'organizzazione del sistema nervoso si aggiunge hardware cioè cervello, reti viene scritto software i programmi per farle funzionare e vengono selezionati software che alla specie servono quindi questo semplicemente per dire che un lavoro nel cenorabidi di Selegans oppure nel moscerino della frutta non potrà dare delle informazioni su come si fa la scelta della merce al supermercato ma ad esempio un lavoro su una lumaca quello che ha fatto Eric Candel non solo che dei ricercatori che hanno lavorato su organismi molto semplici hanno dissezionato i meccanismi base dell'apprendimento della memoria quindi ogni tipo di modello fornisce delle informazioni che sono poi utili agli altri modelli quando arriviamo ai primati noi siamo primati umani naturalmente ci sono i primati non umani le scimmie o le scimmie antropomorfe e lì anche lì le cose cambiano c'è un salto sicuramente dal primato non umano al primato umano e qui vedete la superficie laterale del cervello e vedete che a parte il fatto delle dimensioni perché le dimensioni poi c'è tutto un complesso discorso di rapporto con il peso corporeo eccetera ma comunque certamente vedete che si sviluppa molto per esempio questa parte anteriore del cervello che si chiama il lobo frontale col quale facciamo un sacco di cose e non tutte queste cose sono conosciute allora se noi guardiamo questo grosso cervello di qui qui vediamo la superficie laterale e qui è aperto e si vedono tutti i fasci di fibre sapete anche che quando ci sono addensate le cellule parliamo di sostanza grigia e quando sono addensati i fasci di fibre parliamo di sostanza bianca ora uno dei grandi problemi è stato vedere che cosa c'era dentro e vedendo comunque non si capisce la funzione questo è stato un itinerario conoscitivo ed è tuttora un itinerario conoscitivo tenete presente che le neuroscienze credo che sia un termine degli anni 1970 quindi stiamo parlando di l'itinerario interdisciplinare negli ultimi 40 anni e forse i progressi più importanti sono iniziati nel XIX secolo a metà del XIX secolo se voi pensate a quando Harvey ha identificato la circolazione qui siamo molto molto più tardi è un problema molto più complesso e che soprattutto ha richiesto e richiede tutt'oggi moltissime tecnologie e la tecnologia è uno strumento quindi bisogna usarla e comprendere però servono e per quello che riguarda le neuroscienze ripeto può essere vero anche in altri campi le grandi frontiere sono il molto piccolo quindi il gene la molecola ma addirittura anche prima del gene al molto grande cioè il cervello per intero e anche delle indicazioni di come potrebbe funzionare da questo che si chiama l'imaging funzionale che sicuramente avete sentito nominare fare un compito far fare un compito a un individuo anche sano e poi fare una risonanza magnetica funzionale per vedere quali aree del cervello si attivano che ha dato moltissime informazioni però attenzione tra cent'anni potrebbero ridere di queste informazioni perché qui stiamo mappando le informazioni come facevano i frenologi nel 1800 in più vediamo delle funzioni che si esprimono in secondi quando noi viviamo una giornata di ore e una vita di anni quindi tutto deve essere messo in un contesto tutto deve essere visto con uno spirito critico rimane però il fatto che lo sforzo congiunto tecnologico e anche dei ricercatori implicati che devono parlarsi è uno sforzo molto grande che richiede anche investimenti molto grandi credo che nei paesi che non sono l'Italia che danno alla ricerca scientifica una priorità neuroscienze sono top lo sono in Giappone lo sono negli Stati Uniti lo sono comunque questo adesso è tutto un altro discorso ma è un campo in cui l'impegno è recente storicamente recente io ho questa è una storiella che è vera che con un quesito che posso fare a colleghi alla società di neuroscienze che è la società americana i partecipanti sono un congresso che si svolge una volta all'anno sono circa 40-45 mila quindi una città perché a questo si aggiunge il fatto che è un campo molto molto competitivo e Washington ho preso un tassi e il tassista che si chiamava George mi ha detto siccome andavo al centro congressi mi ha detto scusi ma anche lei fa parte di tutti questi del cervello ho detto sì sto andando a questo congresso ci senta un po' posso farle una domanda in una scala e l'ha fatta precisissima in una scala da 0 a 100 quanto sappiamo del cervello ho detto oddio adesso che cosa gli rispondo a George e io ho detto ma scusi l'ha fatta ad altri questa domanda anche per caso qualcun altro ne ha risposto dice sì e dice guardi in realtà il problema è che io ho portato ieri una persona che deve essere molto illustre perché mi ha detto che ha scritto 20-25 libri e io gli ho fatto questa domanda la sua risposta è stata 0 allora volevo sapere se la persona che ho portato era matta oppure voi che state facendo ecco quindi tuttora io non so cosa si deve rispondere a George per non dirgli che ero matta gli ho detto mi pare un 25% una cosa del genere però francamente non so non so tu cosa risponderesti esatto allora l'ho rifatto in un comitato di colleghi molto molto prestigiosi da un comitato ristretto ho rifatto la domanda del tastista George e mi sono arrivati dallo 0,1 fino al 5% massimo comunque non lo so queste sono delle storie però effettivamente è un itinerario in itinere ecco questo sì allora com'è questo itinerario e questo voi lo dovete avere chiaro e forse anche i ragazzi lo devono avere chiaro e non è un itinerario solo delle neuroscienze di tante altre scienze biologiche allora naturalmente i geni dettano legge nei geni abbiamo una serie di comandi scritti su questo non c'è dubbio sappiamo oggi con l'epigenetica che anche il messaggio dei geni peraltro può essere scolpito comunque dai geni i geni codificano per molecole le molecole quindi qui siamo nell'ambito della genetica qui siamo nell'ambito della biologia molecolare quindi siamo sempre nell'ambito del piccolo arriviamo alla biologia cellulare quindi naturalmente sempre neurobiologia cellulare in questo caso e le cellule sono i mattoni sono i mattoni di un tessuto sono i mattoni di un organo ma c'è molto prima delle cellule naturalmente che può cambiare queste cellule e nel tessuto nervoso abbiamo questa complicazione che abbiamo non solo neuroni ma anche glia i neuroni poi che sono delle cellule per definizione sociali devono chiacchierare il loro lavoro lo fanno chiacchierando quindi costruiscono dei circuiti i circuiti costruiscono dei sistemi che sono quelli di cui parleremo oggi con questi sistemi noi torniamo da una parte all'ambiente e dall'altra il prodotto è la nostra mente la mente è il prodotto del cervello così come lo è il nostro comportamento e con il nostro comportamento torniamo all'ambiente ora servono tutti questi elementi insieme per capire esattamente che cosa sta succedendo e non c'è alcun dubbio che abbiamo un hardware centrale ecco con quest'hardware che si forma nel corso dello sviluppo noi nasciamo ma che poi il software è già scritto ma il software viene riscritto o comunque pezzi di software scritti in continuazione e in relazione proprio alle esigenze ambientali il concetto di sistema nervoso centrale e periferico è molto semplice ma io insisto moltissimo perché è fondamentale quindi vi pregherei veramente di trasmetterlo agli studenti allora noi sappiamo entrambi sono fatti da tessuto nervoso voi sapete senz'altro che tutto la complicazione del nostro organismo è fatta da quattro grandi famiglie di tessuti il tessuto nervoso è una di queste grandi famiglie e il 98% del tessuto nervoso è concentrato nel sistema nervoso centrale ma questo 98% anzi il 100% che corrisponde più o meno al 2% del peso dell'organismo consuma il 20% dell'energia quindi i tessuti che consumano più energia proprio energia quindi ATP ma anche ossigeno insomma tutto quello che serve per produrre l'energia sono il muscolo tant'è vero che il cuore è un muscolo ma numero uno è proprio il tessuto nervoso e qui si torna al problema dal quale avevo iniziato della morte cerebrale perché di fatto qualsiasi situazione interrompa questo apporto energetico il tessuto nervoso muore mentre il resto dei tessuti sopravvive e questo tessuto contiene due tipi di cellule che sono i neuroni e la glia su cui dirò soltanto poche parole ora il sistema nervoso centrale che è la centralina di comando è racchiuso in cavità osse quindi l'encefalo che è racchiuso dentro al cranio e il midollo spinale che è contenuto nel canale vertebrale naturalmente questi involucri ossei sono protettivi naturalmente c'è la grande complicazione che non c'è spazio non lasciano spazio il che ha delle conseguenze sia nella salute che nella malattia delle quali se volete possiamo discutere ora il sistema nervoso periferico è costituito dalle fibre dei nervi e i gangli che sono al di fuori del sistema nervoso centrale ora dove comincia e dove finisce il sistema nervoso centrale è un limite precisissimo quindi l'encefalo abbiamo detto e il midollo spinale che è racchiuso dentro il canale vertebrale queste sono le radici spinali che certamente conoscete all'ingresso delle radici finisce il sistema nervoso centrale questo ha delle conseguenze perché oltre all'involucro cranico il sistema nervoso centrale è protetto dalle meningi e le meningi sono tessuto connettivo non sono tessuto nervoso però sono vabbè questo ne parliamo e poi ci sono delle conseguenze per la patologia per esempio se io taglio questo ve lo ridirò dopo ma lo spiegherò meglio ma la rigenerazione delle fibre dentro il tessuto nervoso centrale è impedita nel sistema nervoso periferico è consentita quindi ci sono proprio delle differenze il neurone è il neurone ma ci sono delle differenze nei compartimenti che sono delle differenze di funzionamento ma anche di malattia e di possibilità di recupero le cellule allora il neurone dirò veramente due parole perché immagino che sia quello su cui sapete di più su cui i testi si estendono di più importante sapere che è una cellula che ha una precisa disposizione spaziale ce ne sono tanti tipi ognuno con una disposizione spaziale questo è fatto perché sono un insieme sociale devono parlare devono chiacchierare e l'organizzazione dei dendriti degli essoni fa sì che si incontrino è una cellula polarizzata vuol dire che ha dei domini funzionali della membrana che non sono identici in tutta la membrana voglio dire se voi prendete tanto per essere precisi ma se voi prendete una cellula epatica e la moltiplicate per n volte avete un fegato ok se voi prendete un neurone e la moltiplicate per n volte avete un disastro quindi voglio dire ogni neurone al posto giusto deve fare le sinapsi giuste e stabilire le sinapsi giuste per circolare allora l'albero dendritico sapete che dendros è la parola greca per ramo quindi non fa altro che aumentare si usano termini botanici quindi le arborizzazioni dendritiche l'albero d'altra parte se voi guardate un albero ha una distribuzione di volumi che è simile a quella poi dei neuroni e sapete anche che formano chiaccherando e stabilendo delle sinapsi formano i circuiti quindi un neurone A chiacchiera con un neurone B eccetera eccetera attraverso questi contatti sinaptici di cui non parlo e che utilizzano per lo più quando sono sinapsi cosiddette chimiche dei mediatori chimici come neurotrasmettitori allora una prima cosa secondo me importante che tutti devono sapere è che è vero che c'è quest'hardware ma quest'hardware si modifica e si modifica per tutta la durata dell'esistenza inclusa la vecchiaia peraltro ora ad aumentare ulteriormente la superficie accettrice in questo caso di sinapsi dei dendriti abbiamo anche delle espansioni che si chiamano le spine dendritiche sempre usando dei termini botanici e queste cambiano cambiano in continuazione le vostre stanno cambiando mentre io vi sto parlando e quando dormirete e farete più o meno pulizia dell'informazione della giornata le vostre spine dendritiche cambieranno quindi stiamo parlando di un sistema che veramente noi possiamo modellare anzi l'esperienza modella e scolpisce sapete anche che i neuroni nascono da cellule madri nascono per mitosi come tutte le cellule somatiche ma poi perdono quando si differenziano quindi quando crescono perdono la capacità di dividersi allora come mai delle cellule così preziose perdono la capacità di dividersi anche perché se c'è un trauma una perdita di neuroni vengono rimpiazzati dalla glia e poi dirò due parole della differenza fra glia e neuroni ora nel piano della biologia come mai questo sia successo adesso potremmo discuterne ma il punto fondamentale è che la nostra esperienza è dentro le nostre sinapsi quindi se noi cambiassimo i neuroni ogni tre giorni come facciamo con i tessuti epiteliali saremmo completamente deficienti e in ogni caso il neurone nato domani non è stato con noi oggi quindi è un meccanismo assolutamente essenziale per il nostro patrimonio di apprendimento questo però vuol dire che i neuroni vivono la nostra vita tutta la nostra vita dalla vita prenatale fino alla morte e che quindi qualsiasi evento dico qualsiasi evento anche un'influenza perché un'influenza vabbè adesso lasciamo non voglio spaventare nessuno perché non c'è niente di cui spaventarsi c'è solo da rendersi conto del fatto che vivendo la nostra vita la vivono nel bene di esperienze molto arricchenti e nel male di qualsiasi situazione oggettivamente dovuta a patogeni oppure a traumi a shock di temperatura qualsiasi cosa i neuroni sono sempre con noi ora può non succedere assolutamente niente anzi non succede assolutamente niente la maggior parte delle volte però magari ad un secondo ad un terzo ad un quarto stimolo il neurone che è stato esposto a determinati stimoli risponde in un modo diverso da quello che non è stato esposto quindi a parte dire sempre ai ragazzi di mettere questo casco a tutti i costi di tenersi cari i neuroni in testa perché nessuno li rifa più ma teniamo presente teniamoceli buoni nel senso che veramente vivono con noi a ulteriore complicazione di chi li studia il neurone è il neurone è una cellula quindi ha le caratteristiche delle cellule è una cellula come ho detto polarizzata ha delle caratteristiche comuni è un nucleo un citoplasma però la grandissima complicazione sempre un'epatoscita n volte fa un fegato e un neurone n volte fa un disastro c'è una grande eterogeneità di popolazioni neuronali quando ne abbiamo capito uno abbiamo capito i meccanismi fondamentali però non li abbiamo capiti tutti e hanno delle regole diverse in queste popolazioni cellulari di questo ci accorgiamo anche nelle malattie c'è questo di cui parliamo della vulnerabilità selettiva con dei quesiti che tuttora sono irrisolti perché degenerano non so un certo tipo di neuroni che sono i neuroni dopaminergici nella malattia di Parkinson perché degenerano i motoneuroni nella sclerosi laterale amiotrofica la malattia del motoneurone di cui forse avete sentito parlare perché comunque fa molta è una malattia fatale è una malattia terribile sono malattie incurabili la SLA è tuttora incurabile perché ci sono delle cellule addirittura nella stessa struttura per esempio nell'ippocampo che sono più sensibili a mancanza di ossigeno di altro questi sono quesiti che sono tuttora irrisolti quindi voglio dire la eterogeneità dei neuroni è un ulteriore problema che si aggiunge nell'ambito delle neuroscienze e tanto per ricordare di questo punto questa è una metodica molto complessa di manipolazione genetica però neuroni tutti uguali e tutti diversi come si vede con questa particolare metodica si chiamano i rainbow ma i sitopi arcobaleno e vedete tutti dei neuroni un pochino diversi poi si possono seguire i dendriti dell'uno e dell'altro allora una cosa importante da tenere presente e da tenere presente un concetto semplice un concetto semplicissimo ma tenere presente anche quando si parla della malattia quando si parla dei traumi delle conseguenze è che in questa cellula che come ho detto è polarizzata la sintesi proteica che sapete benissimo cos'è la fabbrica la fabbrica di tutto il materiale che serve ed è materiale che serve alla funzione sinaptica è nel corpo cellulare mentre lungo l'assone attraverso questo meccanismo che si chiama il trasporto del flusso assonale c'è una continuo viaggio di molecole di sostanze ma anche di vescicole che servono poi alla sinapsia anche se si assemblano poi nel terminale nei due sensi che tecnicamente si chiamano anterogrado dal corpo cellulare al terminale sinaptico e retrogrado dal terminale sinaptico al corpo cellulare allora questo ha una conseguenza che è quella che dicevo prima il corpo cellulare ha assoluta necessità di essere sempre in comunicazione con la sua periferia con la sua sinapsi ma comunque l'assone da solo non può sopravvivere perché i materiali vengono dal corpo cellulare quindi se noi lesioniamo un assone e qualsiasi tipo di lesione a qualsiasi livello comunque andrà ad uccidere della cellula e se la cellula è morta non c'è niente da fare si forma una cicatrice che ripete gliale e va a tagliare degli assoni in qualsiasi sede del sistema nervoso centrale il moncone distale al punto di lesione degenera non può sopravvivere da solo e possiamo avere dei danni molto a distanza da dove di fatto c'è stata la lesione questa non so se vi capiterà di definirla così ma si chiama Valeriana da Waller che era un fisiologo inglese che l'aveva identificata d'altra parte come vi ho detto la degenerazione il corpo cellulare ha assolutamente bisogno di comunicare con la sua periferia perché trae da lì materiali trofici e se la periferia è tutta degenerata degenera anche lui quindi noi possiamo avere un punto di lesione in cui in realtà ci sono delle ripercussioni a distanza ora in una situazione di questo tipo quindi quando abbiamo una degenerazione anterograda il corpo cellulare è vivo e in teoria può fabbricare i materiali per far ricostruire l'assone ma nel sistema nervoso centrale la rigenerazione dell'assone viene impedita tutt'oggi non sappiamo perché è un grandissimo argomento di ricerca e l'ipotesi più probabile su cui ci sono anche delle evidenze è che i prodotti della mielina ecco non abbiamo parlato della mielina ma sapete che la guaina che avvolge l'assone è una specie di nastro isolante con una grandissima componente lipidica i prodotti di rigenerazione della mielina inibiscano la rigenerazione dentro il sistema nervoso centrale ma nel sistema nervoso periferico invece il nervo si può riallungare naturalmente ci mette del tempo bisogna fabbricare tutti i materiali può non fare le sinapsi giuste però mentre non so con un trauma stradale voi vedete persone anche giovanissime con una lesione spinale in carrozzella perché si è persa la funzione della lesione in giù ma non so in un incidente sul lavoro oppure quelle delle corse automobilistiche riattaccando il braccio riattaccando le dita eccetera poi dopo un po' ci vuole riabilitazione un po' di fortuna e tutto il resto ma le rimuovono quindi è un'importante differenza tra centrale e periferico per quello che poi sentirete dire dopo dove vi si parlerà molto di glia eccetera eccetera ora teniamo presente che voi potete anche vedere dei neuroni normali e ci possono essere delle patologie completamente gliali per esempio faccio un esempio forse ignoto ma non so i neuroni non hanno i recettori per il virus dell'AIDS il virus dell'AIDS fa malare la glia però nel neuro AIDS ci sono delle importanti conseguenze nell'ambito diciamo neurologico perché naturalmente una cattiva funzionamento di certe cellule va ad influenzare i neuroni per avere un sintomo voi dovete disturbare i neuroni ma non è detto che ci siano i buchi nel cervello anzi nella maggior parte delle malattie non ci sono in un'encefalite spaventosa la più spaventosa che si possa pensare che è la rabbia che tuttora esiste in moltissime parti del mondo a guardare il cervello è normale non c'è non c'è degenerazione quindi il problema non è solo il neurone che muore è il neurone che funziona male quindi un neurone può essere lì ma funzionare male essere disturbato nel suo funzionamento la glia allora lo sapete poi ve ne parleranno alti io non volevo parlare di questo ma soltanto due parole i neuroni non sono le cellule più numerose del sistema nervoso non sono le cellule più numerose del sistema nervoso centrale gli astrociti sono circa dieci volte più numerosi dei neuroni fra l'altro è un rapporto filogeneticamente evolutivo ma il neurone è l'unica cellula elettricamente eccitabile cioè l'unica cellula capace di generare di condurre l'impulso nervoso la glia è un po' diversa nel sistema nervoso centrale e periferico questi che vedete in blu sono le cellule che fabbricano la mielina sono gli oligodendrociti nel sistema nervoso centrale le cellule di Schwann nel sistema nervoso periferico sono organizzati in modo un po' diverso ognuno ha le sue malattie per esempio la sclerosi multipla di cui sicuramente avete sentito parlare è una malattia degli oligodendrociti le cellule di Schwann sono intatte mentre ci sono delle neuropatie o delle patologie periferiche che colpiscono le cellule di Schwann ma non colpiscono gli oligodendrociti allora e qui forse mi sono dilungata troppo in questa parte iniziale però adesso fatta questa premessa facciamo questa passeggiata facciamo insieme questa passeggiata posso andare ci vorranno circa 20-30 minuti ok allora noi riceviamo dall'ambiente informazioni continue e abbiamo anche visto che sono assolutamente fondamentali perché noi continuiamo ad imparare impariamo e dobbiamo immagazzinare perché di fatto quando abbiamo bisogno di informazioni dobbiamo essere in grado di richiamarle allora prima di tutto queste informazioni devono entrare nel sistema nervoso come facciamo e come le registriamo e questa è una cosa che sapete però avrei piacere che fosse molto chiara in un contesto generale quindi utilizziamo i sensi allora i sensi lo chiedo anche naturalmente il gusto l'olfatto il tatto la vista l'udito ora il tatto il di fatto è molto complesso perché non è solo il tatto la sensibilità tattile si chiama modalità somato sensoriale e comunque in tutti questi sensi più o meno modo complicato ci sono delle sottomodalità ma teniamo per buono che abbiamo i cinque sensi allora i cinque sensi iniziano dai recettori cosa sono i recettori possono essere cellule possono essere pezzetti di neuroni possono essere neuroni dipende dalla modalità sensoriale però sono delle strutture specializzate per registrare un determinato stimolo che hanno peraltro dei parametri molto precisi i recettori del nostro udito sono in grado di registrare gli stimoli entro determinati hertz e altre specie registrano a delle frequenze che sono tutte diverse o molto maggiori quindi sono diciamo dal punto di vista le nostre capacità sono specie specifiche una delle cose che abbiamo fatto noi noi abbiamo occupato una nicchia diurna mi dicevano dei colleghi io non so nulla di etologia comparo però mi dicevano una cosa che tipo molto più del 90% dei mammiferi sono notturni quindi molto di più molto più del 95% addirittura quindi noi abbiamo occupato una nicchia che era poco affollata naturalmente la notte fa più fresco quindi si risparmia energia eccetera eccetera la vista viene utilizzata per certe funzioni ma vengono utilizzate tante altre funzioni noi abbiamo privilegiato la vista e attraverso questo scherzetto abbiamo fatto un cervello che per un terzo visivo e oggi lavoriamo tutto il giorno guardando i computer quindi voglio dire come poi i nostri recettori hanno determinato hanno avuto delle conseguenze incredibili anche su quello che poi la società è diventata è da tenere presente allora dai recettori sensoriali queste strutture specializzate ognuno sta a casa sua ognuno ha fatto al modo suo comunica con un ganglio siamo sempre nel sistema nervoso periferico ora la vista il primo non è un eccellente esempio di questo perché un ganglio vero e proprio non ce l'ha si chiamano le cellule ganglionari la retina che è in fondo alla camera posteriore dell'occhio e in questo caso i recettori sono i coni e i bastoncelli queste sono tutte informazioni che nei libri dei test sono abbastanza chiare quindi le faccio rapidamente la retina però è come se fosse una specie di sistema nervoso centrale dislocato dentro l'occhio molto sofisticato è un mondo sofisticatissimo anche a livello di neuroni e delle loro interazioni l'udito e peraltro nelle orecchie interne abbiamo anche i ricettori dell'accelerazione quindi dell'equilibrio che servono poi all'equilibrio ma nell'organo del corti ci sono queste cellule straordinarie straordinarie non sono mobili sono immersi in un liquido e a seconda della lunghezza d'onda mandano degli stimoli fin dall'inizio la mappa è tonotopica vengono registrate in maniera che le frequenze basse e le frequenze alte vanno in ordine dentro le fibre del nervo uditivo l'olfatto peraltro l'olfatto contribuisce moltissimo anche al gusto l'olfatto ha invece neuroni e qui non voglio perché è una lunga storia semmai facciamo un incontro apposto perché è una storia interessantissima però dentro le cavità nasali in alto abbiamo la mucosa olfattiva che è quella che è vicina alla mucosa respiratoria quindi respiratoria poi continua con traga e bronchi la mucosa olfattiva qui abbiamo una struttura che si chiama il bulbo olfattivo che fa direttamente sinapsi con i nostri neuroni olfattivi quindi il naso è una porta d'ingresso diretta al cervello non voglio in questo seminario il panico ma lo è questo adesso dopo parliamo di quella dopo parliamo di quello comunque è una porta d'ingresso diretta al cervello anche ripeto di un virus influenzale il virus raffreddore il gusto quindi sapete che sono sia a livello dell'olfatto che del gusto abbiamo una chemio eccezione cioè delle sostanze chimiche diventano una stimolazione il gusto è molto complesso talmente complesso più dell'olfatto che ci abbiamo stabilito tutta la gastronomia sopra d'altra parte importante per la sopravvivenza della specie molto importante perché se uno mangia un veleno muore quindi è sofisticato e contribuisce peraltro al gusto moltissimo all'olfatto cosa che sapete dal fatto che quando avete il raffreddore non sentite bene i sapori quindi c'è un grandissimo contributo dell'olfatto questa è una storia complessa sulla quale non insisto perché non è secondo me neanche necessario insistere ma sappiate che questo famoso tatto in realtà sono tante modalità della sensibilità cosiddetta superficiale quella profonda nella superficiale non è soltanto la sensibilità tattile ma anche il dolore il dolore importantissimo perché il dolore è un segnale di pericolo quindi è fondamentale nella sensibilità profonda tutti i recettori che abbiamo nei muscoli i recettori che abbiamo nelle articolazioni che ci consentono di stabilire il nostro corpo nello spazio il nostro schema corporeo fondamentale noi sappiamo comunque sempre dove sono i nostri arti tutto questo è quello che in un libro di testo viene racchiuso intatto e tatto non è ripeto sono sotto modalità di sensibilità superficiale profonda di un grande quinto senso che ci mette in relazione con il nostro corpo e la sua superficie esterna che è la modalità somatosensoriale che cosa succede quando i recettori hanno stimolato allora il tutto viene portato ovviamente dentro al sistema nervoso centrale e qui ricordo perché è importante per la faccia che è una pura nozione anatomica che è sicuramente chiara nei libri che fra il midollo spinale e quelli che si chiamano gli emisferi cerebrali che sono grandi grandi talmente grandi soprattutto la parte superficiale che per non portare in giro una testa grande così che non solo essendono i bipedi con stazione retta non avremmo potuto portare in giro ma soprattutto non sarebbe passata attraverso il canale del parto quindi per aumentare questa superficie abbiamo dovuto avere tutte queste superficie pieghettate comunque la parte di connessione si chiama tronco è costituita da tre parti e nel tronco dell'encefalo ahimè c'è pochissimo spazio molte funzioni vitali molte funzioni vitali quello che ci consente di respirare che comanda anche il battito cardiaco quindi lì se capita un trauma al tronco non si sopravvive ma comunque ci sono dei cosiddetti relais di molte di queste stazioni ascendenti quindi dal sistema nervoso periferico entriamo nel sistema nervoso centrale abbiamo dei relais vuol dire si fa sinapsi si interrompe si fa sinapsi nel midollo spinale nel tronco encefalico peraltro nel tronco encefalico c'è tutta la rappresentazione della testa della faccia soprattutto e teniamo presente che è cruciale perché noi usiamo la parola quindi nella faccia abbiamo tutta la parte della bocca poi si entra dentro una parte che si chiama di encefalo e c'è un'interruzione nel talamo e poi si arriva è proprio un percorso realmente ascendente si chiama ascendente perché ascende sale fino a quello che vedete come superficie pieghettata che è la corteccia cerebrale quella che ha questa superficie così ampia che abbiamo dovuto fare le pieghe e qui avviene la decodifica dell'informazione ora vedremo che cosa significa questo importante sapere che in ognuna di queste tappe in ognuna di queste sinapsi l'informazione si modifica viene cosiddetto elaborata quando parlo di informazione è un anglismo è neural information ma è un'informazione e viene in inglese si dice processed non so se ecco mezzo processata fra virgolette cambiata elaborata e viene preparata in maniera da arrivare alla corteccia cerebrale per poter essere percepita perché che cosa vuol dire tutta questa strada che viene fatta adesso lo vedremo nell'itinerario l'olfatto non ha un relaio talamico è l'unico e arriva invece direttamente a pezzi di corteccia molto antica che sono molto vicini al centro della memoria per cui l'olfatto è particolarmente evocativo e poi parleremo a partire da Prusta una volta ho fatto una lezione in un convegno che si chiama sapere i sapori con se volete la rifacciamo mi ero divertita moltissimo con cuochi chef c'era Gualtiero Marchesi eccetera e neuroscienziati e ho preso il brano di Prusta quello famosissimo delle Madeleine che è precisissimo come itinerario neurale e pezzo per pezzo facendo Prusta abbiamo fatto tutto il giro del gusto se volete una volta facciamo un incontro allora nel talamo il talamo ho messo qui un uovo al centro del cervello e ed è il partner della corteccia cerebrale peraltro lo è in va e vieni la mappa della periferia viene sempre mantenuta cambia ogni volta l'informazione viene elaborata ma a partire dal recettore fino alla fine in corteccia cerebrale nelle aree primarie la mappa della periferia viene mantenuta allora questo potrebbe essere un po' sofisticato ma non tanto il processare sottocorticale di queste informazioni va per vie parallele che cosa vuol dire per vie parallele se voi avete una modalità sensoriale che viene lesa le altre funzionano giusto? perché decorrono in parallelo quindi se un fascio un trauma toglie una sottomodalità però le altre funzionano anzi vengono anche sfruttate dai riabilitatori per il recupero bene allora che cosa vuol dire questa decodifica dell'informazione? vuol dire che solo quando arriva in corteccia cerebrale noi ce ne accorgiamo avviene il fenomeno della percezione questo stimolo che ha fatto tutta questa strada diventa cosciente noi ce ne accorgiamo io sento il sapore io vedo voi e se vedo voi è perché a partire dai miei recettori retinici è arrivato in corteccia cerebrale naturalmente stiamo parlando di ho detto che consuma tanta energia quindi messaggi che vengono mandati in continuazione a velocità folle e che devono tutti integrarsi le aree primarie sono quella visiva quella somatosensorial ognuno diceva la sua e questo è vero in genere nel cervello è vero questo è un cervello umano ma questo è un cervello per esempio di un gatto tutti i cervelli hanno i cervelli con corteccia cerebrale però per esempio notate che qua non ci sono i solchi le circonvoluzioni quindi in questa particolare specie il cervello è liscio ha meno corteccia guardate quanto aumenta la corteccia nella nostra ok allora quando arriva in corteccia cerebrale questo è l'esempio della modalità somatosensoriale la mappa nella corteccia cerebrale primaria è mantenuta ed è in relazione alla funzione quindi noi abbiamo un homunculus così come il gatto ha un gattunculus eccetera eccetera come vedete ci abbiamo questa sia una rappresentazione questa è una ricostruzione vera che hanno fatto in Canada perché l'area che viene occupata l'area proprio superficie che viene occupata o dai recettori che arrivano da quella determinata zona o dai neuroni che comandano quei determinati muscoli questo ovviamente ora lo vedremo perché è diverso nella parte è ascendente la parte sensoriale discendente il comando motorio però naturalmente in relazione alla funzione quindi noi che usiamo il linguaggio verbale abbiamo un'enorme rappresentazione della bocca e incredibilmente delle mani molto di più le mani noi abbiamo questa incredibile acquisizione guardate che è un'acquisizione incredibile prima del pollice opponente ma quello ce l'hanno anche i privati ma i movimenti fini indipendenti delle dita per fare i movimenti fini indipendenti delle dita abbiamo costruito addirittura degli interi fasce apposta quindi questo è una abilità assolutamente umana e comunque ripeto adesso non voglio dilungare ma c'è la mappa del campo visivo precisissima nella corteccia visiva la mappa tonotopica di tutte le frequenze nella corteccia uditiva viene mantenuta la periferia abbiamo percepito che ci facciamo facciamo due cose fondamentali primo le elaboriamo per essere persone e per usare la nostra mente per pensare per agire ma per agire abbiamo bisogno di inviare un comando ai muscoli e quindi il comando motorio come facciamo in questa elaborazione cognitiva quello che in inglese è semplicissimo perché è cognition in italiano francamente non lo so processi mentali io l'ho chiamata elaborazione cognitiva così mi sembra che siamo meno agitati ok abbiamo detto che a livello sottocorticale le vie vanno in parallelo perché arrivata all'area primaria guardate che l'area primaria è un macchinario sofisticatissimo meraviglioso fa una decodifica assolutamente elementare delle proprietà dello stimolo ma è completamente stupida nel senso che serve a mettere le informazioni perché noi le percepiamo ma tutto il lavoro successivo come adesso vediamo avviene attraverso un cammino nella corteccia quindi che è un cammino invece a questo punto gerarchico non è più parallelo è seriale che cosa vuol dire? vuol dire che se da qualche parte c'è una lesione io deafferento tutto quello che ci avvalle ok? quindi è un concetto semplice però anche lì se voi avete una lesione in un punto voi stoppate che non è un buon italiano comunque fermate l'informazione a tutte le stazioni successive questo è un concetto molto sofisticato che però ho deciso di mantenere di dire è proprio un concetto di neuroscienze semplice che sono sicura che sia semplice allora questo è una superficie della corteccia cerebrale dell'uomo questa è dorsale questa è mediale lasciate perdere tutti i numeretti tutte le cose guardate soltanto i colori allora le aree sensitive primarie sono quelle azzurre ok? anzi in azzurro anche la motoria primaria che è M1 comunque questa è V1 l'area visiva questa è S1 la somatosensoriale primaria A1 uditiva primaria queste attraverso delle vie cortico-corticali sono tutte strade che si fanno dentro la corteccia vanno a delle aree in che non fanno più la decodifica precisa dello stimolo del campo recettivo però rispondono essenzialmente a stimoli visivi ma che cominciano un pochino ad integrarsi poi farò degli esempi poi vanno alle aree eteromodali e qui guardate la parte rosa è gigantesca gigantesca dove queste informazioni si incontrano e si integrano e fra l'altro in questa parte gigantesca vedete buona parte di questo lobo frontale che abbiamo detto all'inizio si sviluppa tanto nel nostro cervello per esempio per esempio abbiamo detto che l'informazione arriva all'area V1 ok parte e parte dorsalmente verso la corteccia parietale ventralmente va verso proprio parte per via cortico-corticali sinapsi pezzi di corteccia e a questo punto abbiamo una via che è quella temporale che è la via del cosa serve a discriminare l'oggetto e una via dorsale che è quella parietale che ci dice il dove e cioè la posizione spaziale dell'oggetto allora questo potrebbe essere una cosa difficile da comprendere ma facendovi un esempio della via ventrale è come se voi apriste attraverso queste vie cortico-corticali la modalità visiva è quella che è stata meglio studiata ma è vero anche nelle altre modalità come se piano piano si aprisse sul mondo una finestra sempre più grande per cui nella visione noi passiamo dalla decodifica elementare ad esempio dell'orientamento dei gradi nello spazio nella corteccia visiva primaria viaggia 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 e alla fine noi vediamo un'intera faccia e ulteriormente in questa intera faccia tutto si carica anche di un patrimonio affettivo perché siamo vicino a parte del cervello antico e allora sappiamo se è la faccia di uno sconosciuto o la faccia di nostro figlio quindi e tutto questo sono itinerari che vengono fatti nella corteccia cerebrale e che poi naturalmente determinano il comportamento sociale lo stare con i nostri simili ma anche con la nostra famiglia nell'elaborazione cognitiva fondamentale questo è un discorso lunghissimo quindi cercherò di farvelo brevissimo su questo dovreste avere lezioni soltanto dedicate a questo ma mi interessa l'itinerario naturalmente c'è l'apprendimento e la memoria ok come facciamo a fissarla questa come abbiamo visto che come facciamo a prenderla l'informazione e metterla nel magazzino come facciamo allora a questo pensano delle strutture che sono situate in questo che si chiama il lobo temporale mediale sono delle strutture antiche a me non interessa tanto la nomenclatura però mi interessa il concetto sono delle strutture che appartengono filogeneticamente sono fra le prime a essere comparse che cosa succede succede che tutte le informazioni della neocorteccia a imbuto vanno a finire dentro queste strutture del lobo temporale mediale in particolare nell'ippocampo l'ippocampo è una si chiama così perché somiglia poi anche a Lucio Marino ma è un pezzo è archicortex è corteccia anche lei anche lui ed è arrotolato all'interno del lobo temporale mediale e lì per una serie di circuiti e tutta una serie di meccanismi è particolarmente importante nel fissare la traccia e quindi attraverso questa pezzi di corteccia antica e attraverso l'ippocampo gira nell'ippocampo l'informazione noi la mettiamo nel magazzino dove il magazzino è dappertutto è dentro le sinapsi ma quello è il meccanismo con cui noi la fissiamo e che poi ci deve mettere in grado di richiamarla quando ci serve quindi ad esempio sempre nel sistema visivo si va dall'area primaria a tutte le aree secondarie queste sono le aree temporali dove vi ho detto noi vediamo le facce e poi tutta questa informazione va dentro queste cortecce antiche dentro l'ippocampo e noi la memorizziamo quindi da queste aree eteromodali andiamo questo è le strutture mediali di cui parlavo prima e qui abbiamo un immagazzinamento che ci consente poi il richiamo ma da qui si torna anche alla neocorteccia per scolpire il comportamento che cosa dobbiamo fare per scolpire il comportamento naturalmente dobbiamo pensare ma ci dobbiamo anche muovere infatti tutto questo itinerario che viene fatto serve a dare dei comandi alla nostra corteccia motoria per scendere bisogna riscendere bisogna riscendere nel tronco per far muovere i muscoli della faccia bisogna riscendere nel midollo spinale bisogna arrivare ad un neurone particolare che si chiama motoneurone che ha il corpo cellulare nel sistema nervoso centrale ma il cui assone esce va nei nervi motori e quello va al muscolo i muscoli secondo la mappa dell'homunculus cosa va a fare li va ad innervare che cosa vuol dire che fa sinapsi in questa sinapsi che è una sinapsi chimica il non reprasmettitore la cettilcolina dà il comando al muscolo per contrarsi quindi siamo tornati alla periferia in particolare a questa sinapsi speciale vi ricordo che nel muscolo la cellula si chiama fibra mentre nel sistema nervoso la fibra è l'assone e la sua guaina mielinica e quindi sono diverse la nomenclatura ma c'è questa sinapsi particolare per la quale parte il comando alla contrazione e poi il muscolo che è sofisticatissimo alla fibra muscolare si contrae e a questo punto siamo tornati all'ambiente abbiamo contratti muscoli abbiamo i nostri metodi per arrivare a quello che vogliamo siamo tornati a Pisa e vi ringrazio tanto grazie mille di questa bellissima passeggiata davvero la professoressa Vengivoglio ci ha condotto attraverso il cervello e adesso la presentazione è aperta alla discussione e alle domande quindi date sfogo alla vostra curiosità prima domanda ce l'ho io se era sufficientemente chiaro perché ci sono delle cose che sono un po' complesse i dettagli non importa ma se soltanto spiegatelo agli studenti l'itinerario perché poi magari non se lo dimenticano più e sarebbe successore perché vedo ignoranza terribile forse io ti posso chiedere una cosa siccome tu hai in un passaggio quando hai parlato di come dopo aver percepito il risultato e la percezione si fissa e hai parlato dell'ippocampo hai nominato la parola traccia allora questa è una parola ovviamente molto importante nelle neuroscienze moderne in realtà faccio una domanda faccio anche un commento il fatto che quando noi ricordiamo o impariamo resti una traccia e questo è il senso della domanda poi chiedo alla professoressa ben ti voglio dirci qualcosa di più io quando dico ai ragazzi questa cosa qui ricordo chi studia filosofia e i vostri ragazzi studiano filosofia Platone aveva coniato la metafora della tavoletta di cera e diceva che quando noi impariamo ricordiamo è come una traccia che si sia stata scritta nella in una tavoletta di cera questo è nel te e tetto nel primo dei dialoghi Platonici quindi oggi le neuroscienze studiano questa traccia che poi sta nella malleabilità delle sinapsi eccetera quindi forse siccome è un è un accenno che tu per motivi di tempo hai sorvolato forse dire hai detto è nelle sinapsi ecco forse questo è un punto su cui forse vuoi dire no no ma insomma io non voglio dire spiegate perché ragazzi non ci voglio mettere in questa cosa perché cioè andiamo avanti per un'altra ora non c'è niente a fare insomma il magazzino sono le sinapsi naturalmente perché le modifichiamo ad ogni apprendimento vengono modificate e cioè le conseguenze di non tanto beh di adunque le conseguenze vi dico forse conseguenze perché capite le conseguenze del non immagazzinare vuol dire mantenere dei ricordi antichi ma non apprendere via via quello che succede per esempio all'inizio di una malattia di alzheimer di cui vi sarà dato no in cui si ricordano non so le canzoni degli anni 30 ma non si ricorda se sono state comprate le mele quel giorno giusto quindi il non apprendere impedisce di continuare ad immagazzinare però fino a quando ci sono abbastanza neuroni il richiamo di quello che era stato immagazzinato rimane possibile se poi naturalmente c'è uno spopolamento neuronale tu parlerai di neurodegenerazione? sì ok a quel punto ci perdiamo anche parte del magazzino naturalmente però il punto fondamentale è che a ogni apprendimento la sinapsi cambia è quello che abbiamo imparato dalla lumaca e cambia proprio cambia nel senso che fa delle proteine apposta lascia dei messaggi apposta alla sinapsi quindi succedono delle cose come dire fisiche ecco cioè Platone c'ha ragione nel senso che noi la donna la tavoletta di cera è qualcosa dentro di noi ma scriviamo scriviamo anche lì poi c'è un filtro non viene immagazzinato tutto viene fatta una scelta e questo è un grande quesito come facciamo la scelta che cosa buttiamo via quando buttiamo via per esempio sembra che il sonno sia molto importante per problemi di apprendimento a memoria Salve mi scusi non so la domanda che starò per farle esula un pochino dal contesto però ho molta curiosità riguardo i neuroni specchio grazie sì ma i neuroni specchio sono tutta una anche quella una lezione a parte allora naturalmente sapete che è un sistema che è stato individuato nei primati ed è stato individuato nei primati in una parte proprio del lobo frontale molto vicino alla corteccia motoria è un sistema che comunica peraltro con la corteccia premotoria e la corteccia parietale basato su limitazione ma limitazione insomma che è un meccanismo ovviamente di apprendimento assolutamente anche questo e che ci serve per compiere moltissime azioni che sembra peraltro che sia disturbato in situazioni di malattia mentale che è una cosa molto importante perché sulla malattia mentale sappiamo ancora meno che sulla malattia diciamo neurologica e insomma è allo studio allora è stato identificato nel primate non umano nella scimmia e esattamente l'estensione nell'uomo la funzione nell'uomo che io sappia io non lavoro su neuroni specchio ma che io sappia è tuttora in fase di definizione no? ma sembra essere sicuramente una una importante funzione di come usiamo l'informazione che ci viene da osservare gli altri quindi ne facciamo un patrimonio di apprendimento e in fase di apprendimento per capire se ho capito bene l'informazione che viene immagazzinata quindi si tratta di un immagazzinamento chimico nel senso di differenza di allora no il chimico sono le sinapsi i neurotrasmettitori i neurotrasmettitori sono vari coinvolti no allora quello cui serve diciamo questo sistema del lobo temporale mediale una corteccia rinale l'ipocampo serve a fissarla questa traccia e quello che succede che facciamo delle proteine apposta anzi sono famiglie di proteine che ci servono per tenercela l'informazione non so come posso spiegare per tenercela ok quindi non è questione di numero di connessioni sinaptici di connessioni ne abbiamo ogni volta vengono fatti dei conti ok e ogni volta i numeri diventano sempre più stratosferici allora quello che penso io di connessioni ce ne abbiamo abbastanza ne abbiamo ognuno delle cellule è stato calcolato ne abbiamo bilioni di di fatti anche quello dice si perdono i neuroni con l'invecchiamento stiamo tranquilli cioè fra l'invecchiamento normale no questo ci tengo moltissimo l'invecchiamento normale non è demenza la malattia di alzheimer è una malattia non è un invecchiamento normale esagerato quello che succede però quello si neuroni ne abbiamo in abbondanza ne ricominciamo a perdere a vent'anni non c'è nessun problema anzi forse facciamo pure un po' di pulizia quello che succede è il problema delle spine e delle sinapsi quello nel corso dell'invecchiamento è un po' un problema per quello bisogna assolutamente insistere sull'esercizio insistere sull'esercizio perché spine e sinapsi sono un problema però comunque il neurotrasmettitore continua a fare il suo lavoro di neurotrasmettitore però ci sono proprio un macchinario proteico di molecole che servono ad aiutare a mettersi dentro le informazioni non so poi perché non so scusa anche tu potresti perché queste sono cose un po' complesse ti potresti adoperare a spiegare sì ma io ho il ruolo di moderatore quindi perché è un po' più complesso di così però no non è il neurotrasmettitore comunque ci pigliamo un caffè scusate sì 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 allora interrompiamo sulla presentazione c'è la mia mail ci sono ogni genere io credo che questo corrisponda più o meno a testi di neuroscienze non ho detto niente non so non so se c'è proprio tutto sto schemino che vi ho fatto però no no ma penso che io penso che è organizzato in questo modo logico e conseguenziale è molto illustrato comunque se ci sono quesiti sono a disposizione assolutamente sì quindi non c'è problema c'è la mia mail va bene grazie allora dite ai ragazzi di pensare loro devono pensare pensare di mettere le cose insieme formulando un pensiero cioè più delle informazioni che le informazioni che ne so cos'è l'acetilcolina piuttosto che la dopamina lo troveranno sul telefonino in mezzo secondo non è quello il problema ma come funzionano le cose il problema grazie mille io scusate un'ultima cosa importante da dire che è questa per me è importante allora nel programma di insegnamento che ho io c'è anche la cellula allora arrivo naturalmente come tutti come voi arrivate nella scuola insegnando alle cellule a un organello che è l'apparato complesso di Golgi allora io insegno mi pare dal 1987 ho avuto valanghe di studenti ho chiesto se avevano sentito parlare al liceo di Golgi la risposta che ho avuto in tutte queste decine di anni è no volevo volevo allora se non siete voi no no scusate volevo dire se non siete siccome siccome è molto importante anche per la storia del neurone eccetera eccetera peraltro su cui ha preso il premio Nobel che si dice Nobel ma diciamo Nobel così facciamo più facile è stato proprio sulle neuroscienze allora io sono contentissima del fatto che voi invece ne parliate però io prego anzi io volevo preparare insieme naturalmente ai colleghi una piccolissima cosa da dare nelle scuole perché io sono sicura insomma il problema è che al giorno d'oggi Golgi viene considerato il nome dell'organello puro e semplice in un testo di Harvard io l'ho trovato con la G minuscola ok no non sto scherzando mi posso far vedere tutta la documentazione un collega in signe che è andato all'università di Pavia dove Golgi era professore si è rivolto al collega e ha detto che cosa significa Golgi in latino quindi presupponendo un Golgus e due Golgi ok allora questa è la situazione il fatto che sia un eponimo e che sia l'eponimo peraltro di uno scienziato italiano oltretutto non abbiamo tanti nobbi in genere in particolare per la fisiologia o medicina non ci sono io sono convintissima del fatto che se fosse francese o inglese tutti saprebbero chi è essendo italiano noi italiani non siamo bravi a parlare bene di noi quindi secondo me bisognerebbe fare ripeto il fatto che voi ne parliate è eccellente ma bisognerebbe fare una piccola azione perché perlomeno a livello dei licei quando arrivano all'apparato di Golgi almeno dire visto che con la G maiuscola era italiano era un signore che ha fatto questo peraltro ha fatto le cose importantissime che riguardano la malaria perché il ciclo della malaria del parassita nei globuli rossi un tempo si chiamava il ciclo di Golgi cosa che naturalmente nessuno ricorda più quindi ha dato dei contributi per il sistema nervoso ha dato contributi in citologia era un laboratorio dove hanno fatto delle scoperte incredibili reticolo sarcoplasmatico è stato scoperto nel laboratorio di Golgi i corpi di negri per la diagnosi della rabbia insomma adesso non vi voglio tediare dico soltanto parliamo bene degli italiani e quindi facciamo un'azione per cui magari c'è un piccolo magari non dovete andare su wikipedia magari due o tre slides che è da far circolare in maniera che tutti quando arriviamo a Golgi sia tassativamente con la G maiuscola e non sia il nome dell'organello è un signor italiano ah una volta italiana posso posso interrompere posso posso aggiungere un commento se rubo se rubo due minuti al coffee break allora io ti chiedo visto che hai alzato questa palla molto importante su cui tra l'altro sapere la nostra storia oltre che la storia della disciplina che studiamo è molto importante in generale poi se questa italiana è ancora più importante allora io però io ti chiedo se tu puoi siccome è molto in tema con quello che tu ci hai detto oggi nel campo della neuroanatomia c'è una tecnica che è stata come tecnica introdotta da Golgi si chiama ancora il metodo del Golgi e che ancora oggi viene usata nei laboratori e questo è stato un metodo sperimentale che ha permesso ha rivoluzionato cioè tutte le scoperte allora forse forse puoi raccontare sapete però no ma ci prende un pochino di te no perché lì ci mi spiace se avessi il mio computer ho diapositive bellissime il problema è questo allora vediamo di dirla rapidissimamente dunque ad un certo punto nel 1838-39 è stata introdotta la teoria cellulare ok e questa è stata introdotta da Schleiden Botanico Schwan invece che poi peraltro è anche un medico allora questa teoria assolutamente rivoluzionaria come quella del DNA ha detto che veniva da chiacchiare al caffè di questi signori ha proposto che tutti i tessuti fossero fatti da cellule è stato l'inizio insieme alla tecnologia dei microscopi insieme alla tecnologia delle colorazioni per vedere insomma tutto l'inizio di una nuova epoca ovviamente non soltanto diciamo della biologia ma anche della medicina tutto questo è stato applicato a tutti i tessuti dell'organismo il famoso fegato poverino che continua a nominare ma in genere tranne che il sistema nervoso ok il sistema nervoso non veniva considerato costituito da cellule da cosa veniva considerato storia lunghissima su cui non vi sto a tediare però diciamo dopo Galvani da una serie di condutture elettriche le quali in qualche modo si distribuivano nell'organismo sia a partire dal cervello il cervello peraltro è materia fragilissima e se voi aprite già ci vuole molta fatica ad aprire il cranio ci vuole la sega questo lo dico perché le osservazioni sono partite da quello poi trovate questa marmellata fragilissima si rompe fra le mani un disastro quindi è stato incredibile lo sforzo per vederlo ma comunque l'assunto stiamo parlando del 1870 era che il sistema nervoso fosse formato da una rete di cavi elettrici o nella migliore delle ipotesi peraltro già teoria rivoluzionaria di Cartesio che ci fossero dei spiritelli che giravano dentro i nervi ok fibre nervose peraltro scoperte da un italiano che non gli importa niente a nessuno Felice Fontana ah vabbè comunque secondo me bisogna fare una cosa di cose che hanno fatto gli italiani arriviamo al 1870 questo Golgi che era un era un molto curioso ed era uno sperimentatore che era stato che aveva molta passione per ricerca scientifica non aveva soldi la famiglia non lo poteva mantenere all'università dove allora come adesso servono famiglie che mantengano perché l'università non dà stipendi e quindi è andato in un cronicario questo cronicario ad obbiate grasso che si chiamava si chiama tuttora non si chiama più no è il più luogo degli incurabili allora lì però lui voleva assolutamente fare una colorazione per vedere il tessuto nervoso e per vedere come era fatto quindi si è messo si è comprato un microscopio è andato dal macellaio ha comprato cervello di cavallo e si è messo a pucciare con i sali d'argento i sali d'argento con un'impregnazione argentica questo perché erano delle impregnazioni che dei suoi maestri usavano per altri tessuti all'università di Pavia e a un certo punto lui ha visto il neurone io non so se mi dispiace perché potrei dopo il coffee break farvi vedere quello che ha visto lui e ci ha visto questi ragni quello che poi disegni quindi i dendriti l'assone l'ha pubblicato come spesso fanno gli italiani in un giornale oscuro e ha fatto delle osservazioni fondamentali peraltro li ha chiamati cellule assolutamente li ha chiamati cellule e comunque ha descritto che i dendriti erano terminavano liberi che era già una cosa molto importante perché prima si pensava fosse tutto un intreccio di cavi ma si è perso l'assone allora l'assone è la parte più sottile anche all'osservazione nel microscopio e naturalmente l'assone insomma stiamo parlando di una struttura tridimensionale oggi ci sono moltissimo sforzo per fare ricostruzioni 3D ma lui si è perso l'assone non poteva seguire pur si è impregnato ma non poteva seguire dove andava a finire e quindi ha fatto una teoria sul fatto che il neurone termine che poi il neurone è stato battezzato così dopo nel 1898 però ha fatto un'osservazione aveva un tool uno strumento straordinario per questa colorazione ma poiché si pensava che il sistema nervoso fosse una rete si chiamava teoria reticolare perdendosi l'assone lui ha pensato che tutti gli assoni si unissero a rete dieci anni dopo è arrivato uno spagnolo che si chiama Santiago Ramonica Hall con cui lui ha diviso il premio Nobel è stato il primo premio Nobel condiviso fra l'altro fra due persone il quale guardando dei vetrini di Golgi ha guardato dei vetrini impregnati da Golgi e perché uno psichiatra di cui lui era amico insomma giravano questo materiale per aggiornamento e lui le ha visti e lui ha avuto un'intuizione straordinaria dicendo non signori questi sono cellule perché l'assone si interrompe dopodiché c'è tutta la storia di Cajalla che era un certo personaggio che ha prodotto moltissimo ha veramente ha veramente dato origine alle moderne è uno dei pionieri non è certo l'unico ma è un pioniere delle moderne neuroscienze ha avuto delle intuizioni che erano vere ora io i vetrini di Golgi l'ho visti non era facile capire che l'assone ad un certo punto si interrompeva Cajalla ha capito e tant'è vero che poi allora anche il sistema nervoso è diventato un tessuto fatto di cellule un sistema fatto di cellule ha avuto il nome di neurone questa cellula nel frattempo stava identificando la glia quindi insomma è iniziata tutta la è iniziata la neuroscienza e Cajalla ha utilizzato l'impregnazione di Golgi il risultato però di tutta questa storia e poi Golgi voleva tornare è iniziata una polemica pazzesca perché Golgi diceva una rete Golgi nel frattempo però che era medico al contrario di Cajalla era tornato e faceva gli studi sulla malaria lui non studiava più il sistema nervoso grandissima polemica perché Golgi riceveva una rete Cajalla diceva era il paladino del neurone allora Golgi probabilmente per vedere un po' quello che aveva visto Cajalla torna sulle impregnazioni argentiche e scopre l'organello che è l'apparato di Golgi che lui chiama apparato reticolare interno e lui dice è un nuovo organello e la comunità gli dice no è un artefatto dei sali d'argento non esiste allora polemiche di tutti i tipi in cui però nel frattempo si dava grande impulso a tutte queste scienze grandissima polemica fra Golgi e Cajalla viene dato il premio Nobel per la struttura del sistema nervoso Golgi purtroppo purtroppo fa al premio Nobel dove si fa una lettura la sua peggiore performance no non è stato così allora lui è andato a parlare per primo e ha detto parlando della teoria reticolare evidentemente perché non voleva essere contraddetto ma comunque insomma allora c'era la serie le prix Nobel in francese i testi di Golgi non erano tradotti erano solo in italiano insomma si conosceva si è conosciuto nella letteratura internazionale delle neuroscienze solo questa orrenda conferenza Nobel Cajalla è andato il giorno dopo dopo ha detto tutto quello che ha detto Golgi è errato questo è stato il suo inizio il neurone è una cellula autonoma dal punto di vista funzionale dello sviluppo in tutta la storia e aveva ragione quindi Golgi passa per il cretino non soltanto allora quelli della biologia cellulare non sanno che è il nome dell'organello i neuroscienziati pensano che sia cretino e quindi siamo messi male però la storia è molto più complessa di così il contributo di Golgi è stato fondamentale fra l'altro lui ha dei testi di istologia perché era patologo generale istologo e sono assolutamente dei disegni modernissimi solo che non li conosce nessuno perché naturalmente la comunità italiana non si muove ecco per cui potrei andare avanti ma mi fermo qua dico solo un grande personaggio che fra l'altro al contrario di Cajal Cajal è stato un genio ma Golgi ha lavorato in molti campi ha lavorato nel campo dell'infettivologia di quella che poi è diventata la biologia cellulare del sistema nervoso ha fatto i primi disegni in cui ha fatto vedere neuroni grandi piccoli nessuno aveva visto delle cose di questo genere perché il neurone non l'aveva visto nessuno il neurone l'ha visto per primo lui lui non ha capito una cosa che Golgi ha capito quindi è stata una grandissima polemica fra l'altro Golgi è una persona ci sono delle biografie sue che se potete se avete voglia leggete perché è nato intorno agli anni 40 1840 morto credo nel 24 tutta la storia d'Italia ha passato tutta la storia d'Italia era diventato senatore del regno era molto impegnato in politica sanitaria era un socialista eccetera eccetera Cajal un hidalgo che ha sposato un analfabeta che gli cresceva una serie di figli insomma sono proprio due personalità completamente diverse però onoratissimo in Spagna adorato in Spagna l'Italia non fa nulla la Spagna vabbè non importa ok solo un avviso un avviso a proposito di rapporti con l'estero ho saputo che abbiamo qua alcuni insegnanti portoghesi sono ospiti a Pisa al Santoni con l'Erasmus quindi ci fa piacere se dopo vogliono salutare tutti quanti brevissimamente perché i tempi sono corti allora salve a tutti allora riprendiamo la sessione con questa sessione di questo laboratorio didattico prima di introdurre le persone gli insegnanti che faranno questo laboratorio volevo dire una cosa che mi sono dimenticato di dire nella mia apertura parlare con gli insegnanti è particolarmente importante perché tutti noi quando vediamo uno studente bravo motivato entusiasta è una gioia per chi fa il mio lavoro sia nel laboratorio che nelle aule è una vera gioia e facciamo quello che possiamo per incentivare ulteriormente e noi vediamo anche qui dentro la scuola normale ragazzi molto bravi ma anche nelle altre università ci sono veramente vanno incoraggiati questi ragazzi e la cosa che io dico e penso fortemente è che dietro ciascuno di questi ragazzi c'è stato uno un insegnante che ha fatto scoccare una scintilla in quel ragazzo e questo è una cosa che a cui vi deve che vi deve essere riconosciuta e che la società vi dovrebbe riconoscere penso che attraverso l'azione degli insegnanti delle scuole passi il futuro del nostro paese quindi volevo sinceramente dirvi che è particolarmente importante questa iniziativa che in qualche modo voi siete un moltiplicatore per i nostri ragazzi quindi grazie e adesso introduco questa sessione verrà tenuta e introdotta da Isabella Marini che molti di voi conoscono Isabella Marini è insegnante di scienze naturali al liceo Dini di Pisa è molto attiva nel campo della divulgazione e dell'insegnamento scientifico è presidente dell'ANISN l'associazione nazionale per l'insegnamento delle scienze naturali ed è responsabile di moltissimi progetti anche europei di didattica della scienza e poi interverrà Angela Gravina Angela Gravina ha fatto i suoi studi scientifici nelle neuroscienze anche qui la scuola normale ha fatto il perfezionamento con Lamberto Maffei è stata negli Stati Uniti e poi è insegnante al liceo Buonarroti di Pisa quindi mi fa piacere dare la parola alle due docenti e credo che prima forse volessi ci sono i colleghi portoghesi che vogliono farvi un saluto ora li invitiamo a venire qui come ti chiami? Buon pomeriggio si non parlo italiano portoghese o inglese non lo so inglese mi inglese è ok siamo un gruppo di 5 insegnanti portogale di scuola secundaria di Barcellos Barcellos è una città nel nord di Portugale vicino Braga e Porto non so se sapete il paese siamo qui in Pisa in Erasmus Plus in l'Instituto di Instruzione Superiore di Santone doing job shadowing we have been very grateful for the experience the teachers from the school have been amazing with us and it's a pleasure to be here in your city and in your country it's very beautiful and thank you for the experience my name is Raquel Gloria Armanda Paola Augusto sorry non c'è bisogno di traduzione avete capito allora anch'io farò un'introduzione perché poi in realtà la proposta didattica per questo pomeriggio l'ha realizzata la collega Angela Gravina dunque le neuroscienze a scuola io all'inizio vi racconto un pochino perché siamo qui perché vedo molte facce nuove rispetto alle persone che venivano gli altri anni e magari avete già sentito la professoressa Barzacchi di questo contesto particolare che si è venuto a creare dal 2010 quando l'Accademia dei Lincei ha cominciato a fare delle iniziative per la scuola non solo destinate a Roma perché l'Accademia dei Lincei è a Roma e ci avevano già un'iniziativa penso trentennale o giù di lì che si chiamava i Lincei per la scuola però era praticamente destinata soltanto ai ragazzi delle scuole di Roma ecco dal dal 2010 e un pochino l'ANISN diciamo forse c'ha il merito di averli un po' ispirati ha cominciato a pensare un pochino più in grande e sollecitata anche dalle accademie europee e anche internazionali il primo contatto è stato nel 2010 perché volevano mettere su un progetto di diffusione dell'Ibse l'Ibse questo acronimo significa Inquiry Based Science Education cioè educazione scientifica basata sull'inquiry poi tenterò di dirvi cos'è l'inquiry non è semplice perché è un approccio per competenze molto complesso e noi dell'ANISN avevamo fatto un progetto progetto europeo Fibonacci dove eravamo partner per l'Italia rappresentavamo l'Italia e abbiamo cominciato a lavorare con tutti i partner europei che avevano esperienze lunghissime per esempio i francesi avevano più di 30 anni di lavoro e quindi abbiamo avuto degli ottimi maestri e persone che ci hanno affiancato in questo lavoro e con l'Accademia dei Lincei abbiamo fatto questo progetto che si chiama Scienze a Minquirendo Discere tutte le volte lo dico perché mi piace ricordarlo anche a me stessa il titolo glielo ho dato io e il professore dell'Accademia ed è piaciuto anche a loro perché noi abbiamo diciamo molte modalità strategie metodi di insegnamento che vediamo che hanno tutte terminologie anglosassoni ma in Italia non si parte da zero anzi noi abbiamo soprattutto in alcuni settori a Pisa per esempio la ricerca didattica e matematica è una ricerca di altissima qualità che ha una storia proprio e quindi il nome in latino Scienze a Minquirendo Discere cioè imparare le scienze attraverso questa investigazione e ricerca è un po' diciamo la curvatura italiana di questo IBS di questo modo di insegnare le scienze e da allora sono stati fatti siamo partiti con tre centri pilota in tutta Italia uno era qui a Pisa alla scuola normale che è quello di cui sono responsabile io poi ce n'era una a Venezia e una a Napoli e adesso ce ne abbiamo dieci di centri pilota e l'Accademia dei Lincei che ovviamente ha il meglio del degli scienziati dei letterati italiani ha pensato di affiancare al lavoro sulle scienze intanto di allargarlo anche con iniziative seminariali perché il progetto SID è un progetto molto particolare per la formazione dei docenti e poi ha messo anche gli altri due assi dell'Ox e Pisa cioè ha messo anche la matematica e l'italiano e la lingua madre per cui ci sono tre iniziative e infatti la professoressa Barzacchi ma poi se andate sul sito della scuola normale ormai nel polo di Pisa sono io direi consolidate anche se sempre tutto in fieri chiaramente per cui c'è questa attenzione che devo dire è veramente meritoria perché voi sapete che la situazione dell'educazione scientifica in Italia è veramente basta vedere insomma l'ultimo il riordino Gelmini come le discipline scientifiche sono state trattate e si capisce diciamo il valore che viene attribuito a queste discipline per la formazione dei ragazzi e l'Italia per esempio nonostante i quindicenni continuano a avere delle performance che non sono assolutamente in linea con quelle degli altri paesi avanzati non ha una strategia nazionale e penso che sia l'unico paese in Europa che non ha una strategia nazionale per migliorare la situazione in Germania per esempio dieci anni fa i primi risultati dell'Ox e Pisa che andarono male anche i tedeschi fecero subito un programma nazionale tutto coordenando tutti i lender perché i lender fra l'altro sono abbastanza liberi nell'organizzare anche la didattica e la Germania si è tirata su invece noi no noi abbiamo e questi dati qui purtroppo non vengono diffusi oppure vengono diffusi sempre per dare un'aura negativa alla scuola in Italia abbiamo il 21% dei quindicenni italiani sono degli analfabeti scientifici sono dei low performers assolutamente non è che sono sotto la media proprio non danno nessuna e questo è gravissimo in una società come quella di oggi che è la società della conoscenza in cui per essere cittadini attivi queste sono cose di base per fare scelte consapevoli ma per essere proprio dei cittadini attivi lasciamo perdere poi il discorso di aumentare le vocazioni per le lauree scientifiche che è l'altra emergenza che c'ha comunque l'Europa e che in Europa 2020 viene infatti sottolineata quindi un'istituzione così prestigiosa che ha cominciato a pensare in grande perché ha pensato a livello nazionale dove si cerca di potenziare attraverso la formazione dei docenti una ed incidere nella realtà è veramente molto importante dietro c'è anche il MIUR bisogna dirlo perché anche SID è partito con il MIUR però ecco un'iniziativa ministeriale proprio sull'educazione scientifica purtroppo non c'è prima una decina di anni fa se vi ricordate c'era IS I-I-S insegnare scienze sperimentali no ISS insegnare scienze sperimentali ma anche quella lì apoptosi morta così senza lasciare traccia e e perché siamo qui allora questa qui è un'iniziativa che di formazione vedete c'è il seminario del scienziato esperto di punta nel settore e poi dopo si fa una riflessione su come certe tematiche si possono portare a scuola è un'attività praticamente seminariale l'altro progetto invece il SID è un progetto molto più impegnativo per i docenti che vengono formati perché li facciamo tutto un lavoro sul metodo cioè prima la formazione sul metodo poi progettiamo dei percorsi didattici che sono scuse per mettere in atto il metodo cioè non sono la nostra finalità principale poi queste persone implementano il percorso in classe noi gli forniamo anche i kit con tutto il materiale che serve per farlo e ognuno ha uno o più angeli custodi che sono questi tutor questi docenti esperti che mi affiancano nella nella conduzione e poi alla fine facciamo tutto il report finale sia sul percorso perché chiaramente con l'implementazione si guarda se cosa ha funzionato i punti di forza e di debolezza sia sulla formazione proprio del docente ecco questa cosa qui è è piaciuta e questo poi ci ritorno dopo e da allora abbiamo fatto un sacco di altri progetti insieme a SID per esempio c'è questo SHEN è un progetto sempre sull'inquiry ora qui non me lo indica in cui abbiamo avuto un finanziamento con la legge 62000 è finito due anni fa e quest'anno da quest'anno abbiamo questo Erasmus Plus che però è un K2 diciamo è un accorto diciamo un partenariato strategico si chiamano tecnicamente il progetto si chiama TEST Teaching Experimentation in Science and Technology sempre lavoro sull'IBS fatto però anche questo inseriamo anche le TIC in modo più costruttivo e ci abbiamo come partner l'Università della Bretagna Occidentale quindi la Francia poi la Grecia con l'Università di Patrasso e l'Università di Malta e la scuola normale è uno dei partner e abbiamo una rete di scuole che prende praticamente tutte le scuole di Pisa non tutte le scuole superiori le scuole superiori ce ne sono tre sole per ora e lavoriamo dall'asilo nido alla maturità praticamente sul settore appunto delle scienze sperimentali sempre con la scuola normale e il MIUR quest'anno è stato fatto un accordo per un altro progetto sempre per la formazione dei docenti in educazione scientifica che ora stiamo finendo di sistemare col professor Beltram e con un altro gruppo qui della scuola normale e comunque vi anticipo o a fine estate non so se sarà una scuola estiva o appena inizia la scuola a fine settembre faremo qui un corso residenziale di quattro giorni intensivo sulle tematiche della parte terminale del liceo quindi un lavoro sulla seconda prova scritta il lavoro sulla biochimica anche con la parte laboratoriale vera perché noi si fa il termine laboratorio è polisemico per noi perché il laboratorio è un luogo fisico dove facciamo gli esperimenti ma anche lo spazio per la mente dove si esercitano le varie cose e comunque tanto ci teniamo in contatto e vi saprò dire poi quando questa iniziativa sarà presa comunque sarà qui alla scuola normale ora vado avanti perché se no la collega questo vedete qualcuna delle attività del centro pilota la formazione dei docenti la formazione è sempre stata fatta per ora in presenza e ora ci attiveremo anche con quella online anche perché il contatto con i colleghi stranieri a parte qualche meeting se no è difficile da fare poi vedete c'è la mostra dei lavori dei ragazzi che abbiamo fatto qui nel cortile della scuola normale i bambini che lavorano a scuola e vi dicevo di questo inquiry che è un termine molto di moda oggi se andate a vedere la didattica ecco se andate in rete andate a prendere l'insegnamento dinamico di Federico Enrique ecco lì praticamente c'è una descrizione però basta Galileo con le sensate esperienze e le necessarie dimostrazioni perché è un metodo con cui noi mettiamo i ragazzi nella condizione di essere dei piccoli scienziati c'è un fenomeno che si osserva c'è una domanda guida che si pone e loro cominciano a fare una ricerca investigazione e ricerca possono arrivare a seconda del tipo di domanda chiaramente a cui devono rispondere si organizzano anche le prove sperimentali si possono costruire degli strumenti semplici oppure col supporto del docente lavorare in lavorare con cose più complesse vedete in un passaggio Enrique dice che gli era piaciuto particolarmente vedere che il docente si metteva a conversare con i ragazzi facendosi anche lui un poco ignorante ricercando insieme con loro suggerendo a tentoni la via che essi stessi dovevano percorrere è una descrizione molto bella di quello che è l'inquiry che mette è un approccio per competenze per cui mette in gioco anche cose linguistiche cioè ci dovrebbe lavorare il consiglio di classi io dico sempre non solo l'insegnante di scienza e poi mi piace molto anche la riflessione che c'è dopo dice perché è tanto raro metterlo in pratica non sarebbe normale fare sempre così a parte il discorso del tempo scolastico che apro la parentesi e la chiudo subito e lui dice confessiamo francamente che il compito che ci è proposto è tremendamente stavo per dire divinamente difficile infatti se il nostro pensiero e la nostra parola devono muovere l'attività del discepolo bisogna che qualcosa di vivo che è in noi passi nello spirito di lui come scintilla di fuoco ad accendere altro fuoco rientra e quello che diceva il professor Cattaneo prima o nella definizione di Plutarco che la mente non è un vaso da riempire ma un legno da far ardere al fuoco della curiosità e della conoscenza e se si va a vedere c'è tutta la letteratura oggi vedete tutto anglosassone che ne parla e questo qui è diciamo la Bibbia europea dell'Ibs il famoso rapporto Rocard non so se l'avete sentito mai nominare questo qui è un numero monografico di science perché i paesi cioè anche negli Stati Uniti questa è molto attiva i paesi più avanzati sono consapevoli che la scienza è anche la leva economica della società della conoscenza i paesi che hanno la ricerca più avanzata sono più ricchi quindi lo fanno non per formare le teste dei ragazzi magari ma per raggiungere questi risultati materiali a noi insegnanti ci piace anche soprattutto formare le teste dei nostri ragazzi e c'era un numero monografico di science tutto dedicato all'educazione scientifica dove si parlava appunto dei metodi delle strategie e tutto il resto poi c'era la figura del teacherpreneur se qualcuno se la vuole andare a vedere è molto carino poi questo è un articolo che aveva scovato la professoressa Barzacchi due anni fa su PNAS dove fanno un paragone hanno preso circa 700 lavori di didattica e si sono messi lì a fare l'analisi statistica di quelli che usano dei metodi attivi di insegnamento dove quindi il ragazzo non sta lì passivamente a ascoltare quello che qualcuno gli dice ma partecipa interagisce manipola eccetera eccetera dove c'è la dimostrazione che hanno anche performance molto migliori rispetto alla media di chi invece fa un insegnamento tradizionale trasmissivo eccetera poi e ora questo è quello che su cui mi fermo c'è il collegamento fra l'apprendimento e le neuroscienze perché quando studiano le neuroscienze i ragazzi quello che possiamo fare a scuola ovviamente in realtà poi riflettono molto anche su loro stessi e diventa anche una formazione metacognitiva cioè io che caratteristiche ho nell'apprendere quali canali percettivi attivo maggiormente quali ritmi ho e cominciano a riflettere e sapere che dietro a certi comportamenti c'è un substrato che spiega che li spiega è una cosa molto importante perché imparano due, tre, diecimila cose insieme la professoressa prima diceva che era interdisciplinare è vero perché è un campo veramente perché noi siamo particolarmente interessati ovviamente all'apprendimento e qui c'è questo lavoro che è su Neuron del 2013 dove dice la curiosità attiva l'ippocampo quindi facilita poi tutta la memorizzazione e attiva anche il circuito della grafitificazione tramite il circuito dopaminergico quindi tutti i substrati cioè quel modo di lavorare va bene d'altra parte se voi andate a vedere indicazioni nazionali dei licei la premessa parla proprio di quello peccato dico io che quelli che hanno fatto il regolamento non hanno parlato con loro perché hanno dato un numero di ore che è veramente infimo per fare cioè quelle cose lì si fanno volentieri però hanno bisogno io dico sempre di tempi distesi cosa che invece dare due ore alla settimana per fare biologia chimica e scienze della terra in un liceo scientifico che è la scuola più alta dal punto di vista scientifico cioè si commenta da sé Angela vieni prima dell'intervento di Angela faccio due cosine di pubblicità bieca allora prima il 29 di febbraio scade il bando per le olimpiadi di scienze naturali io sono anche il referente per la Toscana se volete partecipare sono ben contenta fino ad ora hanno partecipato circa 26 27 scuole in Toscana io poi mi occupo anche della fase nazionale qui vedete sono alle internazionali qui ero in Giappone col ministro della pubblica istruzione questa era la squadra iraniana questo signore qui è James Watson che era venuto a premiare i ragazzi della fase nazionale a Castellammare 6 o 7 anni fa qui ci siamo io e le mie colleghe al lavoro e questa qui è la squadra di quest'anno eravamo in Danimarca c'è questo ragazzo qui che ora è un normalista e hanno vinto tre medaglie d'argento e una di bronzo eravamo insomma sono stati bravi e anche questo ragazzo qui con la barba è normalista perché è un ex olimpionico Daniele Cervettini che ora è a Cambridge sì è a Cambridge e quindi insomma c'è questo è per le eccellenze ovviamente quindi se vi volete poi se andate sul sito dell'ANIS www.anis.it sul sito nazionale trovate il bando poi se mi volete chiedere qualcosa me lo dite dopo Angela è già stata presentata dal professor Cattaneo e le lascio la porta ecco sì parto riprendo il modello dell'inquiry-based learning a cui accennava la professoressa Marini appunto declinato nel modello delle 5 E's è un percorso caratterizzato da varie fasi e non c'è no ok ecco ok ok sì appunto in tempi più recenti è stato declinato nel modello delle 5 E's siccome abbiamo poco tempo vado subito al dunque e illustro questo schema che riassume le varie fasi di un percorso didattico e le varie fasi appunto includono delle fasi di coinvolgimento iniziale di exploration che è quello di cui parlava appunto la professoressa Marini cioè un'attività in cui il ragazzo è protagonista di un percorso di ricerca seguito da un explanation cioè una spiegazione dei processi e dei dei dati delle evidenze che sono state fornite e poi un'elaborazione in cui lo studente applica le conoscenze e le competenze che ha acquisito in contesti più ampi o in contesti diciamo diversi il punto a cui già accennava la professoressa Marini è come declinare nel settore delle neuroscienze un percorso di questo tipo un approccio metodologico di questo tipo la premessa ovvia è che le neuroscienze in particolare la psicobiologia si propongono di comprendere le basi biologiche del comportamento un comportamento che ha non solo una manifestazione esteriore ma anche i processi mentali che lo compongono quindi un'indagine di processi complessi che necessita un approccio a diversi livelli e qui parlavo dei vari approcci ma la professoressa che ci ha preceduto ne ha parlato ampiamente bene richiede un approccio di studio integrato e qui appunto riprendevo prima abbiamo visto le varie cortecce e qui vediamo la corteccia primaria visiva l'area 17 l'area motoria e si vede la correlazione con le aree del broma e vabbè questo andiamo avanti perché se no non ce la facciamo e volevo sintetizzare al massimo quindi come si studia il sistema nervoso studi integrati pazienti con lesioni studi di registrazione elettrica cerebrali quindi potenziali evocati studi di registrazione dell'attività delle singole cellule nervose l'elettrofisiologia per arrivare alla stimolazione magnetica a queste tecniche di indagine come si vede le tecniche si fanno sempre più sofisticate per avere delle indicazioni sempre più precise anche se restiamo in quell'ignoranza a cui accennavamo prima quindi non è comunque la la complessità del sistema sia come del sistema oggetto di studio che delle tecniche di indagine non permettono una sperimentazione una sperimentazione didattica diretta mi spiego in chimica noi andiamo in laboratorio e direttamente i ragazzi possono impostare l'esperimento fare il protocollo eccetera in questo caso ci troviamo di fronte a una maggiore difficoltà allora come declinare un percorso didattico l'approccio laboratoriale a volte è visto anche come banalizzante come con un rischio di banalizzazione anche rischia di alcuni dicono di vanificare la valenza didattica di perdere tempo però ecco in questo percorso si cerca di mettere in evidenza che non solo costituisce una metodologia più efficace ma può fornire anche un ulteriore ulteriori strumenti di approfondimento e diventare appunto una palestra per sviluppare appunto non solo quelle competenze ma quel pensiero a cui ci invitava la professoressa di prima quindi le finalità affinare il pensiero scientifico l'attitudine alla ricerca favorire un'integrazione fra il sapere teorico e il fare procedurale spesso anche l'attività di laboratorio viene relegata a un ruolo di mera dimostrazione fattuale subordinata al sapere teorico ecco invece cercare di integrare in questo senso potrebbe essere produttivo interessante e l'ultimo l'ultima finalità che mi interessava particolarmente si riallacciava anche a quanto diceva la professoressa Bentivoglio prima sviluppare un pensiero critico nei discenti e qui la la proposta è evidente ecco spesso adesso va molto di moda seguire la via più semplice non importa dove porti ecco un metodo un approccio di questo tipo forse può aiutare a fare un'indagine anche diciamo più complessa ma che porta a dei risultati più efficaci e che porta veramente a un'analisi del comportamento vero allora veniamo al percorso didattico un percorso didattico che ho sperimentato con le mie classi quinte con l'aiuto di esperti esterni qui voglio ringraziare la professoressa Berardi e anche altre esperienze avute con progetti Erasmus il lavoro si articola su vari momenti formativi di didattica laboratoriale e vuole essere solo uno spunto di riflessione che poi può essere declinato può essere preso per quello che è una condivisione di un'esperienza riprendiamo lo schema di prima e rivediamo come adesso fase per fase è stato elaborato il percorso un percorso che ha preso in considerazione un sistema estremamente complesso appunto il sistema della memoria ne parlavamo prima io non entrerò nei contenuti figuriamoci non ci sono entrati gli esperti figuriamoci io però abbiamo fatto questo percorso con gli studenti e forse può essere interessante ecco condividere e vedere come anche in un ambito di neuroscienze che si prestano meno a un'esperienza laboratoriale diretta si può avere un'esperienza di questo tipo allora cominciamo con la prima fase che è la fase di engagement cioè il ragazzo lo studente viene coinvolto nel processo di apprendimento e coinvolto nelle tematiche di apprendimento in questo caso trattandosi della memoria come prima è stato detto l'approccio comportamentale forse quello che è il più accattivante il ragazzo specialmente l'adolescenza vuole conoscersi vuole sapere e quindi un approccio comportamentale che consiste in cosa in test di memoria a breve termine e a lungo termine memoria dichiarati memoria appunto a breve termine ci sono proprio dei test che si possono fare online non hanno tanto un valore di indagine quanto un valore appunto di warming up di approcciare il ragazzo al tema e la cosa piace moltissimo perché i ragazzi vengono subito coinvolti entrano nel tema e nello spirito di indagine sulla long term invece si fanno delle domande ora io qui ho evidenziato già i vari tipi di memoria ma i ragazzi all'inizio non viene presentato vengono fatti vari tipi di domande saranno poi loro con le loro risposte a individuare alcune domande alcuni interrogativi che poi si porteranno avanti nel percorso quindi si individueranno delle domande scusate delle domande guide delle domande guida a partire da domande che sono state fatte anche da loro cioè si fa tipo un brainstorming in cui facciamo delle domande e poi si cerca di organizzarle quindi approccio comportamentale dall'analisi delle risposte degli interessi scaturiscono delle domande ecco lo facevo stamani in classe giusto per vedere è una domanda che è emersa anche stavolta è stata c'è un unico sistema di memoria per task diversi o ci sono sistemi di memoria multipli per diversi task ed è quello che in modo molto diciamo senza approfondire troppo eccetera però si cerca di affrontare come e qui entra in gioco una metodologia particolare quindi queste sono le domande che ci poniamo quale vie quale aree coinvolte quali meccanismi cellulari quali meccanismi molecolari che sono poi le domande che sono emerse anche da questa assemblea perché sono domande particolarmente interessanti e avvincenti e qui parte la seconda fase exploration quello che era interessante fare quando si fanno queste esperienze di trasmissione di didattica laboratoriale è quella di farlo quindi io avevo proposto alla professoressa Marini di dividerci in gruppo e fare un'esperienza di questo tipo però ovviamente non era possibile anche visto il numero e il luogo non era possibile allora prova a raccontarvelo allora in questa fase i ragazzi faranno delle domande elaboreranno dei percorsi di indagine in questo caso però trattandosi della memoria e vedendo la difficoltà dell'argomento il materiale viene preparato dal docente cioè io avevo già preparato cioè in base alle loro domande preparo del materiale ripeto la dottoressa Berardi mi ha aiutato in questo e appunto si esplorano delle evidenze sperimentali cosa quindi non si può sperimentare direttamente ma cosa si fa si attingono si attinge a dati per un'analisi di percorsi già sperimentati in fase di ricerca di ricerca scientifica quindi l'attività permette di acquisire una maggiore autonomia nella ricerca dei dati nel riconoscimento di dati attendibili e qui l'attendibilità del dato è particolarmente curata perché spesso i nostri ragazzi sappiamo bene a quali fonti attingono e ecco queste sono esperienze che io spesso faccio anche col CLIL e quindi anche un'analisi di test in lingua che può aiutare appunto nel percorso come allora come si opera e qui devo ringraziare un'altra persona il dottor Sonno che ci ha guidato in un percorso di Comenius Regio e ci ha proposto questa attività didattica particolare di tipo cooperativo allora ci si divide in quattro gruppi e in quattro lati della stanza in base agli interessi ognuno ogni angolo ha un argomento che interessa e ognuno sceglie il proprio angolo ora in questo caso io ho ridotto a tre per motivi di tempo e poi non li vedremo neanche ma solo per far vedere a ogni gruppo viene dato il materiale che consiste di evidenze sperimentali attraverso appunto prese dalla letteratura o lo prese dal candel e queste cose qui e ogni gruppo lavora su queste evidenze cioè cerca di pensare come si diceva prima dall'evidenza arrivare a delle conclusioni andando avanti quindi questi si formano i gruppi il primo gruppo lavora la domanda era dov'è la memoria ecco una domanda un po' ingenua però ho messo le loro domande quindi le aree e le vie coinvolte nel processo di memoria spaziale ci siamo soffermati sulla memoria spaziale perché era venuto fuori poi comunque c'è stato il Nobel nel 2014 sulle cellule sulle grid cell le space cell quindi è un argomento di particolare attualità ecco questa figura che ho messo è semplicemente così per abbinata al tema però non è quello che viene fornito allo studente qui si arriva solo alla fine d'accordo quindi lo studente parte dalle evidenze sperimentali e appunto l'ippocampo è stato largamente citato prima l'ippocampo è una struttura particolare allora come si arriva a vedere che l'ippocampo è una struttura coinvolta nel processo di apprendimento ce ne ha già parlato la professoressa lo studio e il primo approccio è stato quello dello studio delle lesioni e quindi qui si individuano le varie aree e poi le varie lesioni il famoso AGM il paziente che appunto aveva subito l'asportazione dell'ippocampo e quindi tutti gli studi che sono stati visti qui invece c'è l'attivazione dell'ippocampo quindi tecniche più moderne altre evidenze sempre sperimentali che associano l'attivazione di aree ippocampali a un percorso ecco che può essere fatto cioè a un'attivazione della memoria spaziale e quindi cosa accade nell'ippocampo mentre impariamo un nuovo percorso e qui c'è una parte sulle place cell and place field questo io lo salterei perché se no non c'è tempo però sono altre evidenze sperimentali che vedono come i roditori apprendono e come si attivano certe cellule e quindi un modello di memoria dichiarativa in questo ambito la memoria spaziale nei roditori e quindi ci sono queste evidenze sperimentali in cui il roditore apprende deve andare a trovare una piattaforma e poi ci sono delle trial all'inizio non la trova e quindi ci sono più e dopo con l'apprendimento invece la trova e qui ci sono dei dati dei grafici che i ragazzi devono vedere fino ad arrivare appunto alla costruzione di un percorso di memoria quella a cui accennava la professoressa prima secondo gruppo è invece una memoria implicita una memoria procedurale per far vedere qui la taglio veramente tanto per far vedere che si seguono altre vie quindi ci sono dei sistemi diversi sistemi multipli di memoria e qui una memoria procedurale c'è un terzo livello ecco qui quindi siamo rimasti sull'aspetto fisiologico e poi c'è un livello più diciamo zoomando verso il piccolo arriviamo ai meccanismi cellulari e molecolari quelli che ci chiedevamo prima ora io mi guarderò bene dal toccarli riporto soltanto e avevo anche levato tutte le diapositive perché avevamo detto con Isabella no questa roba è troppo difficile leviamola leviamola quindi ho lasciato proprio degli spunti giusto per far vedere che cosa quindi plasticità neuronale capacità dei circuiti nervosi a modificarsi cambiando la loro uscita cosa cambia nel circuito perché questo anche i ragazzi se lo chiedono ma questa memoria in fondo cos'è è questo che si vuole rispondere però ripeto qui ho levato tutte le slide quindi ingresso presinaptico va bene qui non non entro in merito comunque il meccanismo ebbiano che era stato proposto tempo fa poi trova dei riscontri con long term potenziation eccetera e qui c'è un riassunto però prima di arrivare a questo c'è tutto un percorso che non che non mosso però se qualcuno fosse interessato si può eventualmente prendere e le esperienze si traducono in alterazione biochimica e strutturale del neurone qui si vede come fattori di trascrizione possono in qualche modo modificare e controllare l'espressione genica e in questo modo ritornare tradurre quelle proteine necessarie per una modifica una modifica che porterà poi alle spine sinaptiche eccetera eccetera insomma io ripeto non entro però il percorso è particolarmente interessante e avvincente explanation quindi questa è una terza fase in cui si dà una spiegazione del fenomeno qui è una foto l'unica che sono riuscita a mettere in cui si fa vedere come lavorano i ragazzi quindi in questa stanza i ragazzi vengono distribuiti nei gruppi hanno il loro materiale che spargono in terra e cercano di appunto dare delle spiegazioni ai fenomeni che stanno osservando i risultati cosa arrivano a vedere qui meccanismi di plasticità sinaptica appunto ho preso delle diapositive così per vedere come appunto ci sono e come si formano le modifiche non ho citato i recettori in MDA che sono diciamo i protagonisti le correnti al calcio sono tutte cose che vengono analizzate e qui non le riportiamo quindi circuiti nervosi possono modificarsi e queste sono diciamo le slide di sintesi dei lavori dei ragazzi e quindi ecco qui ci sono i recettori in MDA che vengono trattati e si vede come ecco questo lo voglio dire perché è particolarmente interessante cosa si cerca di fare si cerca di trovare queste correlazioni tra appunto il soggetto senza recettori in MDA nell'area ipocampale interessate e il soggetto normale il soggetto senza recettori in MDA non ha perde capacità di memorizzazione quindi la correlazione i ragazzi fanno questo tipo di approccio e quindi l'apprendimento modifica l'efficacia sinaptica eccetera eccetera qui ci sono altri dati si arriva alla quarta fase di elaborazione a questo punto ogni gruppo è arrivato alle sue conclusioni ai suoi dati ha rielaborato ha spiegato eccetera e adesso c'è un lavoro di sintesi ogni gruppo spiega a tutti gli altri le sue conclusioni dove è arrivato cosa ha capito e poi c'è una fase di discussione comune e la discussione comune è come un puzzle in cui si mettono tutti i pezzi insieme quindi un percorso che si fa sia a livello come la scrittura di un paper e poi tutti i dati che vengono messi insieme per una spiegazione globale e qui appunto alla fine si fa anche nella memoria ritornando al macroscopico un quadro generale in cui si differenziano i vari tipi di memoria dichiarativa esplicita implicita eccetera e va bene direi che posso chiudere ok grazie per l'attenzione ecco allora qui bisogna vedere quanto noi vogliamo andare a approfondire quanto quanti ragazzi sono disposti a lavorarci anche a casa e dipende certo è un percorso che prende un po' di tempo secondo me dando dei tempi molto stretti del tipo voi avete mezz'ora per fare questo task e quindi dopo mezz'ora dovete la parte sulla memoria sulla plasticità neuronale quella prende tanto tempo le altre evidenze erano più circoscritte quindi con quelle si può fare anche in due tre ore non è una cosa la plasticità neuronale come ci hanno detto è veramente una cosa sì 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 no 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 io ripeto ma come cioè se l'argomento della plasticità è veramente ampio mentre questi altri sono circoscritti quindi si prendono delle evidenze e poi ovviamente c'è la guida del docente che alla fine integrerà ecco non abbiamo visto tutti i vari tipi di memoria eccetera la partenza cioè i prerequisiti di partenza i prerequisiti di partenza sono una conoscenza del sistema nervoso ovviamente perché neurone eccetera il programma che poi facciamo nelle nostre scuole perché non è vero che noi non lo facciamo e fra le altre cose vabbè allora il tempo è tiranno perché il percorso avete visto sarebbe stato bello vedere questo materiale perché è tutto materiale preso dalle riviste scientifiche selezionati quelli che erano gli esperimenti in cui si vedeva che dal comportamento dell'animale che ci aveva anche la registrazione contemporanea quali erano le aree che venivano attivate come si associavano col comportamento e quindi i ragazzi alla fine hanno visto che diversi tipi di memoria usano strade diverse che poi si parlano quindi cioè è un approccio alla complessità e anche diciamo al comprendersi che è molto importante per i ragazzi e poi complessivamente cioè riusciamo ad ottenere diverse cose la scelta del materiale la parte della selezione del materiale visto che non è che possiamo prendere i topi metterli elettrodi eccetera a scuola non lo possiamo fare e non lo vogliamo neanche fare e quindi però abbiamo questa messa enorme di materiale su cui possiamo lavorare che possiamo selezionare per far arrivare i ragazzi piano piano a comprendere delle cose in modo chiaro e quindi c'è questo zoomare continuamente io dico dal macro al micro al molecolare e poi ritornare indietro dal molecolare in un dialogo continuo fra quello che si vede sperimentalmente il comportamento e poi la comprensione di questa di queste funzioni complesse volentieri 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 è un po' un po' tanta roba sono un po' pesanti e poi sono già sintetizzati ecco volentieri sentirò anche le fonti eh sì perché si vuole concludere allora sentite io ora riportano e poi discutono tutti insieme in modo da formulare un modello anche lì un'ora o due poi dipende sulla parte neuronale e lì ci si perde per la plasticità mentre sulle varie memorie lì si può con la guida dell'insegnante arrivare anche a formulare in terra tutte le varie memorie le connessioni un carino rossi divertenti il discorso del tempo vi ho detto che avevo aperto e chiuso la parentesi perché per chi cioè quando si fanno dei percorsi e si lavora in questo modo una cosa che a me succede sempre è che inciampiamo in un altro in una miriade di altre domande che aprono altri interrogativi e che ai ragazzi vi è in voglia di andare anche in quelle altre direzioni per cui poi alla fine il docente deve tenere la barra perché se no però a volte dispiace anche dirgli ora basta basta perché sta per suonare la campanella a questo proposito però ci sono anche delle esperienze che si fanno in tutte le scuole come la settimana scientifica per esempio da noi la collega negli anni passati ha fatto proprio delle particolari presentazioni in una giornata dedicata alle neuroscienze con i ragazzi che presentavano e approfondivano degli argomenti quindi al limite dei tempi si riescono a ritagliare ecco anche magari con sì cioè a scuola mia lo sapete noi abbiamo Scienza Aldini anche quello è tutto un percorso di ricerca didattica che si fa con i ragazzi qui c'è per esempio Lucia Flori tre anni fa abbiamo un modello del DNA fatto perfetto come nei migliori musei scientifici del mondo e tirammo fuori cioè lei fece fare ragazzi che venne fuori dalla ricerca anche dei ragazzi la simulazione della diffrazione raggi X dell'elica con la famosa croce con l'elica presa da una lampadina di tungsten o dei vecchi fari delle automobili e con un laser quindi insomma nel curricolare stretto il tempo di fare queste cose non c'è questo però dimmi mi hai approfitto visto che è anche la presidente dell'Adi sì perché tante volte mi sono chiesta concretamente l'associazione nazionale insegnante della scienza nazionale cosa ha fatto cosa sta facendo per parlare al ministero e dire che non ha vergogna che l'insegnamento delle scienze sia di due ore miserabili nel 90% delle scuole con delle pretese assurde con tanto di valutazione tra l'altro dobbiamo far rientrarci anche questo che prende la testa e mi chiedo qui perché ne avrei tantissime però concretamente avete un dialogo oppure c'è un vi do del tu perché siamo tutti colleghi dunque la mia scuola è una scuola che ha particolarmente sofferto della riforma germine noi avevamo una sperimentazione trentennale splendida che funzionava benissimo con 18 ore sul quinquennio quindi neanche tantissimo che ci hanno portato a 13 perché la mia scuola non ha voluto le scienze applicate quindi noi abbiamo buttato alle ortiche 40 anni di ricerca didattica siamo tornati indietro di 50 anni e tanti pezzi io li devo fare trasmissivi perché non ho alternativa con i ragazzi dunque per cui io sono una di quelle che è stata più battagliera abbiamo scritto tantissimi documenti però non ci sono orecchie che ascoltano cioè non abbiamo interlocutori se vai sul sito dell'ANISN io e altri colleghi abbiamo scritto un documento di analisi proprio sulla ricosa Gelmini abbiamo fatto tutta l'analisi delle percentuali di quanto era data nel liceo scientifico all'area scientifica che percentuale c'aveva e poi appunto le cose che vi ho detto tutte analizzate a livello internazionale cioè io vado alle olimpiadi internazionali e vi assicuro che i paesi che sono più curiosi di come si insegna noi sono quelli dell'est asiatico io ho i colleghi della Corea del Vietnam che mi chiedono le cose io siccome ero una biochimica ho cominciato a fare ricerca didattica in biochimica ma senti ma te come fai ma sono curiosissimi e ci investono tanto e evidentemente hanno anche il tempo altro tempo a scuola poi i bimbi che vengono le medaglie d'oro hanno tutti gli occhi a mandorla tutti e sì c'è anche tante altre cose no però qui non lo so abbiamo degli interlocutori che per ora almeno sembrano sordi poi noi continuiamo a lottare vi posso dire che quando mi chiamarono al ministero nel 2010 no 2009 l'anno prima della riforma Gelmini per fare le indicazioni nazionali che volevano qualcuno dell'associazione e l'associazione mandò me allora una lotta feroce devo dire feroce per fare un programma di biologia di chimica e di scienze della terra con un ispettore che appena arrivamo ci disse oh poca roba perché qui abbiamo poco tempo se no gli insegnanti dicono che hanno da fare troppo questa fu la premessa il buongiorno fu e avevamo fatto tutto un programma di quinta che avevo chiamato anche Angela ci avevamo messo anche un pezzo di neuroscienza in quinta ma non c'è l'avete visto che non c'è c'è la biochimica la biochimica era una delle cose che avevo proposto che d'altra parte era massacrata banalizzata nei libri con ragazzi che non ci capiscono nulla perché c'è la coordinata di reazione per spiegare gli enzimi nel biennio io vorrei sapere cosa ci capiscono ma insomma però per ora io spero che poi piano piano ascoltino e secondo me comunque tutte queste cose che facciamo più visibilità diamo a quello che facciamo non stiamo a piangerci addosso poi io dico sempre una cosa si chiama associazione perché sono tanti insegnanti io mi faccio le mie 18 ore a scuola tutti i giorni e poi dedico tempo anche a altro forse se tutti ci mettiamo insieme cioè se voi volete venire un pochino a dare una mano all'associazione iscrivervi e fare qualcosa siete benvenuti ovviamente siamo tanti insegnanti che ci siamo messi insieme c'è qualcuno che è un po' più sognatore un po' più lottatore degli altri che si mette a fare anche altre cose però siamo noi non è che ci abbiamo e comunque qualcosina piano piano riusciamo a ottenere su queste cose qui delle ore purtroppo ho visto che non c'è niente da fare anche perché poi sapete il lenzolo è corto perché in realtà la riforma Gelmini cioè io non la chiamo riforma la chiamo riordino è stata deriva dalla legge Tremonti del 2008 cioè Tremonti che in realtà ha fatto la modifica cioè gli 8 miliardi di tagli hanno generato questa cosa per cui le ore date in più a noi le tolgono a qualcun altro insomma lasciamo perdere queste dinamiche prego allora ci vediamo il 16 va bene grazie grazie